Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Ho deciso di portarvi questo caso molto lungo perché credo sia davvero interessante. Non voglio anticiparvi nulla, quindi iniziamo subito. Quando Michael e Christine Morton acquistarono la loro nuova casa in Edselhurst Drive nel 1985 a nord-ovest di Austin, la zona non è ancora divisa in due da strade a pedaggio o inghiottita da miglia di ininterrotte espansioni urbana. A causa della crisi immobiliare, la costruzione dei nuovi edifici viene bloccata e la zona in cui vivono a es del lago Trevis è un mosaico di nuove case e lotti non disboscati o densamente boscosi. Sebbene la casa dei Morton abbia un indirizzo di Austin, si trova appena a nord del confine della contea di Trevis, nella contea di Williamson, un'area che, nonostante l'incursione di nuovi residenti e il rapido sviluppo, conserva ancora l'atmosfera rurale e i valori tradizionali di una piccola città del Texas. Austin è una città descritta come moralmente permissiva, il loro quartiere si sta ancora formando ed è destinato a tutti i nuovi abitanti, la maggior parte dei quali giovani professionisti con bambini. I Morton giungono nella loro casa quando Eric, loro figlio, è ancora un bambino. Sua madre Christine impara rapidamente il nome di tutti i vicini, ci tiene molto a fare amicizia con chi li abita accanto, infatti spesso viene vista nel dialetto di alcune case dopo il lavoro, proprio per fare visita a qualche vicino e fare qualche chiacchierata. Christine è amichevole, ha lunghi capelli castani e occhi azzurri e possiede una sicurezza disarmante. Michael è diverso, da Christine ci mette un po' di più ad avvicinarsi a degli estrani e a dar loro confidenza, non conosce bene i suoi vicini. Infatti lo descrivono come un uomo distante, è solito lavorare anche l'intera mattinata nel cortile, ma non alza mai lo sguardo, saluta poco, è schivo. Elizabeth G, la vicina di casa dei Morton, moglie di un avvocato, madre e casalinga, spesso sembra presa alla sprovvista dal comportamento distante e schivo di Michael. Non fa mistero di aver visto Christine in una situazione che lei descrive comica. Michael e Christine erano andati a cena fuori con la famiglia G. Una volta Michael aveva alzato gli occhi al cielo, quando Christine aveva guardato timidamente suo marito perché rispondesse per lei quando il cameriere gli aveva chiesto se volesse qualcosa da bere. Christine era cresciuta nei soborghi a sud di Houston e aveva frequentato la scuola cattolica, dove era una studentessa popolare. Michael era un po' diverso da lei. Il lavoro di suo padre in una società di servizi petroliferi aveva portato la famiglia da Waco a una serie di piccole città nel sud della California, prima che si stabilissero finalmente a Kilgore, dove Michael frequentò i suoi ultimi due anni di liceo. Un giorno, quando Michael aveva 16 anni, suo padre lo portò con sé in un sito di trivellazione petrolifera e Michael si sedette in macchina e guardò suo padre lavorare duramente sotto la pioggia gelata. Frequentò la Stephen F. Austin State University a Naco Dogches, dove nel 1976 conobbe Christine in un corso di psicologia. Per il loro primo appuntamento la portò fuori con una corvette presa in prestito e la ragazza, non molto tempo dopo, confidò a una sua amica di nome Margaret Permenter che pensava che potesse essere l'unico e il solo per lei. Disse che Michael era piuttosto riservato, ma era molto carino. Christine seguì Michael ad Austin nel 1977 dopo aver abbandonato la Stephen F. Austin State University. Avevano sperato di finire gli studi e laurearsi all'Università del Texas, ma quell'ottimismo si sgretolò quando appresero che molti dei loro crediti non erano validi. A questo punto Michael ottenne un lavoro. Di notte caricava i prodotti sugli scaffali in un Safeway, di cui alla fine diventò manager e passò a supervisionare articoli da tueletta e articoli per la casa. In seguito avviò anche un'attività secondaria di pulizia di parcheggi. Lui e Christine trascorrevano il fine settimana al lago Travis facendo sci nautico e girando su un motoscafo che Michael e molti suoi compagni di college avevano comprato insieme. Divenne un appassionato di immersioni subacquee e nei suoi giorni liberi esplorava il lago Travis per ore. Michael e Christine erano affettuosi l'uno con l'altro, ma non nascondevano i loro problemi. Un ex compagno di stanza di Michael, di nome Gay Gaines, disse che discutevano molto animatamente, specialmente di sera, e se uno dei due iniziava a non sopportare più il litigio, semplicemente andava a dormire e poco dopo l'altro lo seguiva. Si sposarono nel 1979. Il modo in cui discutevano riusciva a innervosire anche i loro amici più cari. I due alzavano la voce, si affrontavano. È così che è proseguito il loro matrimonio. Il problema è che litigavano costantemente e, tra l'altro, nessun argomento era troppo rilevante. Dopo aver acquistato la casa a Hazelhurst Drive, l'argomento del paesaggio generò battaglie e campagli su tutto, dalle dimensioni del portico che Michael stava costruendo, alla decisione di Christine di piantare calendule alla fine del dialetto, fuori portata dal irrigatore. A Michael piaceva anche prendere in giro Christine e, con il suo senso dell'umorismo, riusciva a essere, sì, sarcastico, ma talvolta anche grezzo. Spesso, per scherzare, recitando, Michael le urlava «Puttana, portami una birra!» mentre Christine rispondeva sempre «Vai a farti fottere!» Avevano assistito a una scena del genere mentre erano a una grigliata tra amici e, da lì, non hanno mai smesso di prendersi in giro, emulandola. Avevano un rapporto solido e profondo, tanto che superarono insieme un enorme dispiacere nei primi anni di matrimonio, quando Christine subì un aborto spontaneo tardivo durante la sua prima gravidanza. All'epoca era incinta di quattro mesi e mezzo. Se non fosse stato per Michael, scrisse in seguito a sua madre, non sarebbe sopravvissuta all'angoscia della loro perdita. Ovviamente erano felicissimi quando Christine rimase incinta di nuovo, meno di due anni dopo, ed esultarono quando raggiunse il suo nono mese senza gravi complicazioni. Ma, entro un'ora dalla nascita di Eric, nell'estate del 1983, la famiglia Morton fu informata di un altro dispiacere. Loro figlio aveva gravi problemi di salute. Quel giorno fu necessario eseguire un intervento chirurgico d'urgenza per riparare un'anomalia nell'esofago. Durante le tre settimane di permanenza nell'unità neonatale che seguirono, i medici scoprirano anche che Eric aveva un difetto cardiaco congenito. La condizione impediva al suo sangue di ricevere la giusta quantità di ossigeno. I medici dissero a Michael e Christine che il loro figlio non sarebbe sopravvissuto fino all'età adulta, a meno che non avesse subito un intervento chirurgico a cuore aperto, ma non avrebbe potuto sottoporsi alla procedura fino a quando non sarebbe diventato più grande e più robusto. Doveva raggiungere il suo terzo compleanno o pesare almeno 30 chili. Operare prima comportava troppi rischi. Fino ad allora non c'era niente che Michael e Christine potessero fare se non aspettare. Insieme dunque si dedicarono alla cura di Eric. Se si sforzava mentre eseguiva qualsiasi attività, la sua pelle diventava leggermente blu, un sintomo che peggiorava con l'età. A due anni si sedeva in silenzio e disegnava o sfogliava libri illustrati e si stancava così facilmente che se avesse corso per il soggiorno una o due volte sarebbe caduto a terra sfinito. Durante i giorni feriali Christine lo lasciava alla mattina in un asilo nido ad Austin ed era un compromesso che le permetteva di continuare a lavorare a tempo pieno come manager all'All Estate, una compagnia assicurativa. Ma la sera era riduttante a lasciarlo con una babysitter. Michael pensava che fosse importante prendersi una pausa e fare qualcosa di divertente di tanto in tanto ma Christine sentiva il bisogno di stare vicino a casa. Erano entrambi così preoccupati per Eric, volevano tenerlo in salute fino al suo intervento chirurgico e in effetti questo fatto creò molto stress nella coppia. La tensione nella relazione divenne evidente, niente rimase nascosto a lungo e le battute di Michael iniziarono ad essere più dure. Senza contare che si lamentava apertamente con gli amici che lui e Christine non facevano abbastanza cose intime a letto per i suoi gusti. Inoltre avrebbe dovuto perdere del peso perché non era più in forma. Nel giugno del 1986, poco prima del terzo compleanno di Eric, i Morton, come precedentemente pianificato, si recano a Houston per la sua operazione. Christine prende un congedo e Michael usa tutti i giorni di ferie a sua disposizione per poter essere entrambi presenti durante le tre settimane di degenza in ospedale di Eric. Ognuno di loro dorme a turno al suo capezzale in modo da non lasciarlo mai solo. L'intervento ha successo e quando viene dimesso Eric sembra essere un bambino diverso. La trasformazione è incredibile, quasi miracolosa. Per la prima volta nella sua vita le sue guance sono rose ed è pieno di energia. Quando tornano a casa Michael e Christine lo guardano stupiti mentre corre allegramente su e giù per il marciapiede, fuori dalla loro casa, ridendo. Sei settimane dopo, la settimana di mercoledì 13 agosto 1986, Michael si alza prima dell'alba e si veste per andare a lavoro muovendosi silenziosamente nella camera da letto per non svegliare Christine. Avevano festeggiato il suo compleanno la sera prima e, almeno all'inizio, era stata una serata divertente avevano portato Eric con loro al City Grill, un ristorante alla moda nel centro di Austin, per una serata fuori. Michael e Christine si sorrisero mentre il loro figlio mangiava dal piatto di sua madre e poi scavava in una coppa di gelato. Non l'aveva mai fatto prima, non poteva, era troppo debole e doveva seguire una dieta rigida per non affaticare la digestione. Eric si addormentò in macchina mentre stavano tornando a casa. Quando arrivarono a destinazione, Michael lo portò nella sua stanza rimboccandogli le coperte. Una volta che lui e Christine rimasero soli, Michael mise nel videoregistratore un video per adulti che aveva noleggiato per l'occasione sperando di accendere un po' di romanticismo, ma non molto tempo dopo avere iniziato a guardare il film, Christine si addormentò sul pavimento del soggiorno. Ferito e arrabbiato, Michael si ritirò in camera da letto senza di lei. Più tardi, quando Christine andò a letto, si chinò e lo baciò. Domani sera, promise. L'episodio irritò non poco Michael che, quando si svegliò quella mattina prima di dirigersi in cucina, lanciò un'occhiata a Christine. Era nervoso, la donna dormiva nel loro letto avvolta in una camicia da notte rosa che aveva indossato per il suo compleanno. Dopo aver fatto colazione, Michael le scrive un biglietto che appoggia sul mobiletto del bagno. Christine l'avrebbe visto di certo, non sarebbe passato inosservato. L'uomo scrive, Chris, so che non volevi, ma mi hai fatto sentire davvero indesiderato ieri sera. Dopo un buon pasto siamo tornati a casa, ti sei abbuffata del resto dei biscotti. Poi, con la camicia da notte intorno alla vita e mentre io ti strofinavo mani e braccia, hai scorreggiato e ti sei addormentata scusate, mi viene da ridere, comunque andiamo avanti. Non sono arrabbiato, mi aspetto chissà che, volevo solo che tu sapessi come mi sento senza che ci ritroviamo immersi in un'altra lotta riguardo l'intimità. Pensa come ti sareste sentita se fossi stato io ad addormentarmi il giorno del tuo compleanno. È ancora buio fuori quando quella mattina esce dal vialetto dopo le 5.30. Quando arriva al Safeway fa ticchettare le chiavi contro le porte di vetro principali e il responsabile della produzione, Mario Garcia, lo fa entrare. Timbra il cartellino alle 6.05 per tutta la mattinata lui e Garcia parlano del loro reciproco interesse per le immersioni subacquee. Programmano di fare un'inversione il giorno successivo. Michael accetta di chiamare Garcia quella sera in modo da decidere un posto in cui incontrarsi. Lascia il lavoro poco dopo le 2 di quel pomeriggio e si ferma al centro commerciale per fare qualche commissione. Dopo, verso le 3.30 va a prendere Eric. Mildred Ridden, una donna anziana che si prende cura di loro figlio e di molti altri bambini ospitandoli a casa propria, è sorpresa di vedere Michael. Gli comunica che non aveva né visto Eric né sentito Christine per tutto il giorno. Allarmato, Michael prende il telefono e chiama a casa. Il telefono squilla più volte e poi un uomo di cui non riconosce la voce risponde. Per un momento Michael pensa che sia il fratello di Christine visto che è in città. Posso aiutarla? chiede l'uomo. Sì, sto chiamando a casa mia risponde Michael. Dimmi, dove sei? chiede di nuovo questo uomo. Sono dai Ridden ribatte Michael. Dove? Questo è lo sceriffo. Cosa sta succedendo? chiede Michael. Io vivo lì, lo sceriffo ribatte. Beh, dobbiamo parlare con te Michael. L'uomo in preda al panico risponde sarò lì tra dieci minuti. Lo sceriffo gli risponde va bene ma vai piano ok? Michael si precipita verso la porta così velocemente che Mildred Ridden che si era voltata per un momento per mettere un bambino su un'altalena non lo vede neanche andarsene. Nel frattempo lo sceriffo della contea di Williamson Jim Botwell è sulla scena di un crimine. La porta della casa di Hazelhurst Drive viene delimitata dal nastro segnalitico utilizzato sulle scene del crimine appena Michael torna a casa. Nonostante il caldo opprimente di quel pomeriggio d'agosto molti dei suoi vicini sono fuori nel loro cortili smettono di parlare quando lo vedono fermarsi. Michael scende dalla macchina corre attraverso il prato e cercando di farsi strada all'interno della casa supera gli agenti dello sceriffo e i tecnici del laboratorio criminale che sono già sulla scena. Lui è il marito grida lo sceriffo Jim Botwell una volta che Michael si identifica. L'uomo respira fatica. Mio figlio sta bene? chiede preoccupato. Sta bene risponde lo sceriffo Botwell è dai vicini e mia moglie lo sceriffo che in effetti non ha molto tatto risponde semplicemente è morta. Botwell conduce Michael in cucina e lo presenta al sergente Don Wood l'investigatore capo del caso. Dobbiamo farti alcune domande prima di farti incontrare tuo figlio gli comunica Botwell. Stordito Michael si siede al tavolo della cucina non mostra alcuna reazione alla notizia della morte di Christine e mentre siede di fronte allo sceriffo e all'investigatore capo del caso cerca di dare un senso a ciò che sta accadendo attorno a lui. Gli agenti dello sceriffo lo sfiorano aprendo cassetti e frugando negli armadietti Michael vede la luce del flash di una macchina fotografica illuminarsi più volte nella camera da letto principale mentre un fotografo della polizia fa foto in camera da letto Michael realizza che quella stanza deve essere il luogo in cui Christine è stata uccisa sente gli agenti entrare e uscire da casa sua mentre parlano sconcertato Michael si rivolge ai due agenti delle forze dell'ordine in cerca di risposte è stata assassinata? chiede incredulo dov'è mio figlio? Boatwell non vuole rispondere alle sue domande lo sceriffo Boatwell dice solo che Christine è stata uccisa ma che non sanno ancora cosa le sia successo a quel punto Boatwell è in casa di Michael ormai da due ore e mezza gli agenti dello sceriffo erano arrivati nel primo pomeriggio rispondendo a una telefonata in preda al panico della vicina di casa dei Morton Elizabeth G la quale aveva notato Eric che vagava da solo per il cortile dei Morton indossando solo una maglietta e un pannolino allarmata entrò nella casa dei Morton chiamando la sua amica Christine non ricevendo nessuna risposta iniziò a girare per la casa guardandosi intorno dopo averla cercata ovunque scoprì il corpo di Christine era sdraiata sul letto con un piumone tirato sul viso sopra di lei erano stati accattastati una valigia blu e un cesto di vimini il muro e il soffitto erano imbrattati di sangue la sua testa era stata colpita ripetutamente con un oggetto contundente fin dall'inizio lo sceriffo Boutwell non aveva trattato Michael come un marito in lutto ma come un sospettato lo sceriffo non aveva mai cercato di contattare Michael per informarlo della morte di Christine e la loro conversazione al tavolo della cucina era iniziata con Boutwell che leggeva a Michael i suoi diritti Miranda ossia l'avviso dato negli Stati Uniti d'America dalla polizia ai sospettati di reato che si trovano sotto custodia cautelare prima che gli siano rivolti domande relative al compimento di un reato la custodia cautelare è quella in cui la libertà di circolazione di un soggetto è limitata sebbene egli non sia in arresto la sua opinione su Michael ha origine dal biglietto lasciato in bagno per Christine che mostra che nelle ore precedenti l'omicidio Michael era arrabbiato con lei Boutwell l'aveva a letto poco dopo essere entrato nella casa la mancanza di emozione di Michael alla notizia della sua morte non contribuisce certo a dissipare il sospetto dello sceriffo l'omicidio ha a che fare con il marito della vittima degli strani dettagli presenti sulla scena del crimine rafforzano la sua intuizione non ci sono segni di un'irruzione un fatto che Boutwell ripeterà in media nelle settimane a venire però sebbene sia vero che non vi sono segni di effrazione la porta scorrevole a vetri della sala da pranzo è aperta la rapina non sembra essere il movente del delitto la borsa di Christine è scomparsa ma il suo anello di fidanzamento e la fede nuziale sono in bella vista sul comodino anche altri oggetti di valore come una fotocamera con un teleobiettivo sono intatti Michael che non richiede un avvocato si dimostra collaborativo e sincero durante la sua conversazione con Boutwell e Wood a casa sua quando gli viene chiesto di spiegare cosa aveva fatto e in che orari a partire dalla mattina precedente aveva descritto la sua giornata nei minimi dettagli fino al particolare tipo di pesce che Christine aveva mangiato a cena e al colore dei calzini che aveva indossato a letto con il passare del pomeriggio iniziano a incalzarlo sulle tensioni nel suo matrimonio chiedendogli anche se nessuno dei due avesse mai avuto una relazione extraconiugale percependo la deriva della conversazione Michael a un certo punto dice non l'ho fatto qualunque cosa sia Boatwell che non ha esaminato le ferite di Christine ipotizza erroneamente che le avessero sparato alla testa a distanza ravvicinata e molte delle sue domande si concentrano sulle pistole che Michael tiene in casa a Michael piace cacciare e ha sette fucili in tutto mentre parla tira fuori le sue armi quando passa a parlare della sua calibro 45 automatica lo sceriffo Boatwell e l'investigatore capo Wood alzano lo sguardo mentre Michael con voce sorpresa dice il mio calibro 45 è scomparso una pistola del genere non può passare inosservata hanno già perquisito il suo deposito di armi da fuoco e quella precisa arma non c'è ma nessuno dei due risponde a Michael il disagio in Michael aumenta a ogni domanda finché l'uomo esplode esclamando non ho ucciso io mia moglie siete dei pazzi la conversazione si protrae per il resto del pomeriggio in seguito Wood scorta Michael a casa di un vicino dove Eric aveva precedentemente suonato chiedendo aiuto sollevato nel vedere suo padre Eric corre da lui Michael cade in ginocchio e abbraccia il bambino per la prima volta dall'inizio del calvario crolla e piange la gente avrebbe poi osservato quanto fosse strano che Michael avesse deciso di non andare in un hotel a casa di un amico quella notte ma con la mente annebbiata dallo shock e dal dolore lui ed Eric tornarono a casa Michael non gli chiede a cosa avesse assistito anche perché Wood aveva cercato di interrogare il bambino ma senza ottenere alcuna informazione Michael invece rassicura suo figlio gli dice che tutto sarebbe andato bene la casa è in disordine i mobili sono rovesciati i vestiti sono sparpagliati sul pavimento della camera da letto e la cucina è disseminata di lattine di coca cola vuote e di mozzicone di sigaretta intento a riordinare la casa per creare un certo senso di normalità Michael tira giù il nastro giallo della scena del crimine posto all'esterno e inizia a ripulire quando si fa buio va da una stanza all'altra accendendo le luci di tutta casa quando alla fine la stanchezza lo avvolge completamente si infila nel letto di Eric e si sdraia accanto a lui tenendolo stretto le luci rimangono accese per tutta la notte la mattina dopo Orin Holland che vive a un isolato a nord rispetto alla casa dei Morton in Adonis Drive ferma il vice sceriffo che sta perlustrando il quartiere per condividere quella che pensa possa essere un'informazione importante Holland informa l'ufficiale che sua moglie Mary e una vicina Johnny Martin avevano visto in diverse occasioni un uomo parcheggiare un furgone verde vicino al terreno vuoto e boscoso dietro la casa dei Morton più precisamente sua moglie Mary e Johnny Martin avevano visto l'uomo scendere dal furgone ed entrare nell'area invasa di vegetazione che si estendeva fino alla recinzione dei Morton quando Orin Holland parla con il vice poco dopo un agente delle forze dell'ordine gli fa visita ma il suo scopo non è quello di porgere loro delle domande su ciò che avevano visto bensì rassicurarli d'altronde tutti sono molto nervosi e preoccupati in quel momento il vice sceriffo dice a tutti che non devono preoccuparsi non corrono alcun pericolo poi aggiunge sicuro sappiamo chi è stato questo non è un evento casuale i vicini capiscono perfettamente che il vice sceriffo si riferisce al marito della vittima ossia Michael in realtà le poche prove fisiche recuperate sulla scena del crimine non sono attribuibili a Michael le impronte digitali rintracciate sul telaio della porta scorrevole in vetro nella sala da pranzo non corrispondono a nessun membro della famiglia Morton in tutto vengono trovate circa 15 impronte digitali in casa inclusa una sulla valigia blu che era stata lasciata sopra il corpo di Christine ma non ne viene identificata nessuna un'impronta fresca viene anche scoperta proprio all'interno del cortile recintato dei Morton la prova più convincente viene scoperta dal fratello di Christine John Kirkpatrick che perquisisce la proprietà dietro la casa il giorno dopo l'omicidio appena a est dell'otto boscoso dove l'uomo nel furgone verde era stato visto dai vicini dei Morton c'è un cantiere abbandonato dove i lavori per la costruzione di una nuova casa erano stati interrotti John fa il giro del sito cercando qualcosa che possa aiutare a capire cosa si è successo a sua sorella mentre esamina il terreno individua una bandana blu macchiata di sangue accanto al marciapiede John consegna la bandana all'ufficio dello sceriffo ma la sua scoperta non spinge le forze dell'ordine a setacciare l'area dietro la casa dei Morton per ulteriori prove forse il significato della bandana non viene compreso magari perché gli investigatori non riescono a dare seguito alla pista del furgone verde o peggio viene semplicemente ignorato quando John consegna la bandana a quel pomeriggio lo sceriffo Boatwell e l'investigatore Wood sono già assorbiti da un altro sviluppo del caso sulla base di un'analisi del cibo parzialmente digerito trovato nello stomaco di Christine il medico legale aveva stimato che fosse stata uccisa tra l'una e le sei del mattino Michael era stato a casa con lei fino alle 5.30 i risultati non inchiodano Michael ma non lo scaggiorano nemmeno da ogni sospetto e nemmeno la constatazione del medico legale secondo cui Christine non era stata aggredita intimamente scaggiorano del tutto Michael né l'aggressione intima né la rapina sembrano aver motivato il suo assassino ma la natura del pestaggio ossia 8 colpi alla testa sembrano suggerire che il colpevole fosse fortemente arrabbiato pochi giorni dopo lo sceriffo Boatwell incontra Michael Mary Lee e i genitori di Christine Jack e Rita Kirkpatrick per aggiornarli sull'andamento delle indagini Michael gode di un rapporto cordiale con la famiglia di sua moglie ma quel giorno i commenti dello sceriffo cancellano rapidamente qualsiasi buon rapporto esistente tra loro mentre Boatwell conforta Kirkpatrick con la certezza che avrebbe trovato l'assassino di Christine chiarisce che Michael non è ancora escluso dalla lista dei sospettati quando si svolge il funerale di Christine più tardi quella settimana a Houston il disagio tra Michael e la famiglia Kirkpatrick è evidente nelle settimane successive dozzine di persone che avevano conosciuto Michael e Christine amici intimi colleghi e conoscenti ricevono la visita di Wood Wood è un ex camionista e capo della polizia di una piccola città non è certo un esperto detective della omicidi è nella posizione di investigatore grazie ad una promozione ricevuta appena sette mesi prima ma è dirigente a volte produce fino a quattro rapporti al giorno e spesso rivede i suoi appunti scritti a mano con lo sceriffo prima di scrivere a macchina le sue scoperte l'incrollabile attenzione di Botwell verso Michael rende la migliore amica di Christine Holly Gersky che ha passato giorni e giorni ad essere interrogata nell'ufficio dello sceriffo profondamente scossa conoscevo la routine di Christine sapevo del suo matrimonio sapevo tutto ciò che volevano sapere quindi avevano molte domande per me spiega Holly per tutto il tempo continuavo a insistere sul fatto che Michael non avrebbe mai potuto fare del male a Christine ho detto loro che non avrebbe mai deciso di abbandonare Eric una mattina lo sceriffo Botwell l'aveva fatta sedere senza mai alzare la voce ma con una presenza molto imponente e intimidatoria disse a Holly o stai mentendo o c'è qualcosa che non ci stai dicendo nelle settimane successive Michael supera due test della macchina della verità e collabora pienamente alle indagini rispondendo sempre più spesso a una serie di domande di Botwell e Wood senza la presenza di un avvocato da loro il consenso di perquisire il suo pick up e fornisce loro campioni di capelli saliva e sangue dovete sapere che prima dell'avvento del test del DNA negli anni 90 gli strumenti forensi come la determinazione del gruppo sanguigno e l'analisi dei capelli erano relativamente primitivi erano efficaci nell'eliminare i sospetti ma non riuscivano a individuare l'identità di un colpevole non viene individuata alcuna prova fisica che leghi Michael all'omicidio tuttavia Botwell non cambia idea sul caso e rivela a un giornale locale il Country News che le impronte trovate vicino alla scena del crimine non hanno alcun collegamento con l'omicidio inoltre parla di macchie di sangue scoperte in un cantiere nelle vicinanze un riferimento alla bandana blu ma le attribuisce al risultato di un piccolo incidente di qualche operaio senza dubbio sa benissimo che un omicidio risolto può turbare gli imprenditori edili e le nuove famiglie che si stanno trasferendo nella contea di Williamson lo sceriffo infatti cerca di dissipare le preoccupazioni sulla sicurezza della comunità soprattutto sottolinea che l'omicidio di Christine non era casuale aggiungendo sono sicuro nell'affermare che non c'è bisogno di allarmare il pubblico perché dubito seriamente che abbiamo a che fare con un serial che sta colpendo nella zona Michael pensa e ripensa a ciò che sarebbe potuto accadere il giorno in cui Christine ha perso la vita ovviamente si biasi ma pensa che se fosse stato in casa non sarebbe accaduto nulla ma attualmente è più preoccupato dalla possibilità che Eric abbia assistito all'attacco e che potrebbe esserne rimasto traumatizzato arrivano nuovi dettagli sulla scena del crimine le persiane che Christine apriva sempre quando si svegliava erano rimaste chiuse indossava ancora la camicia da notte il che suggerisce che era stata uccisa poco dopo che Michael era andato al lavoro e quindi l'uomo sperava che Eric avesse dormito durante quell'esperienza traumatica si rincuora quando Jeanne McLean una terapista infantile con cui organizza un colloquio con Eric dice a Michael che suo figlio manifesta segni di ansia da separazione che spesso seguono la morte di un genitore ma nulla indica che il ragazzo stesso fosse stato una vittima poi diverse settimane dopo il funerale Eric dice qualcosa che a dir poco stupisce Michael l'uomo era in ginocchio nel bagno principale a strofinare la vasca da bagno quando Eric si avvicina dietro di lui il bambino fissava la vasca e guardava la doccia poi disse papà conosci l'uomo che era sotto la doccia con i tuoi vestiti Michael si appoggiò allo schienale sbalordito non aveva dubbi sul fatto che Eric stesse parlando dell'uomo che aveva ucciso Christine la domanda del ragazzo combaciava con i dettagli della scena del crimine c'era del sangue sulla porta del bagno esitando a dire qualcosa che potesse turbare suo figlio Michael non indagò ulteriormente jean mclean d'altra parte non raccoglie altri dettagli da Eric e Michael non rivela la dichiarazione del figlio all'ufficio dello sceriffo data l'aggressività con cui Botwell e Wood lo avevano interrogato Michael non li voleva neanche per scherzo vicino a suo figlio su sollecitazione di un amico riesce ad avere un incontro con due stimati avvocati di Austin Bill Ellison e Bill White che gli consigliano di smettere di parlare con le forze dell'ordine Michael non crede che Botwell e i suoi vice avrebbero mai trovato l'assassino di Christine poco prima dell'ora di cena del 25 settembre Michael sente suonare il campanello spegne i fornelli e afferra Eric sollevandolo sul fianco quando apre la porta vede Botwell e Wood in piedi nel portico Botwell stringe tra le mani un mandato di arresto lo sceriffo avrebbe potuto lasciare che Michael si presentasse un'ora prestabilita dandogli abbastanza preavviso anche per trovare una sistemazione per Eric invece decide di sorprenderlo a casa mi sta prendendo in giro dice Michael mentre gli mettono le manette ai polsi l'ultima volta che Eric vide gli agenti di polizia era il giorno in cui sua madre era stata uccisa e ora quando viene strappato dalle braccia di Michael e consegnato alla loro vicina Elizabeth G diventa isterico Botwell dopo aver ammanettato Michael lo conduce lungo il vialetto principale l'uomo si volta per vedere Eric ha le braccia tese e urla squarciagola nella sua direzione il procuratore distrettuale della contea di Williamson Ken Anderson nonostante sia convinto che lo sceriffo sia un ottimo elemento esprime dei dubbi sulle prove fin dall'inizio Botwell era pronto ad arrestare Michael entro una settimana dall'omicidio ma Anderson riuscì a tenerlo a bada Anderson aveva espresso i suoi dubbi anche dopo l'arresto di Michael dopo il suo arresto Michael trascorre una settimana nella prigione della contea di George Town prima di essere finalmente rilasciato su cauzione all'inizio di ottobre torna a casa e cerca di riprendere una vita normale con Eric che in sua assenza era stato accudito dai nonni paterni e materni la normalità ovviamente è impossibile entro meno di cinque mesi sarebbe stato processato per l'omicidio di sua moglie tuttavia Michael continua a lavorare 40 ore alla settimana al Safeway e si occupa di suo figlio portandolo a sessione di terapia e agli appuntamenti dal cardiologo sa che alcuni dei suoi colleghi non sanno cosa pensare di lui ma altri come Mario Garcia lo hanno accolto senza problemi i due uomini non si conoscevano così a fondo prima dell'arresto di Michael non avevano mai socializzato al di fuori del lavoro ma Garcia ossia l'uomo che fece entrare Michael al Safeway il giorno in cui Christine era stata uccisa è sempre stato certo che fosse innocente quella mattina era lo stesso di sempre ripete Garcia non ho mai dubitato di lui dopo tutto quello che ha fatto per far star bene Eric perché l'avrebbe lasciato sulla scena del crimine perché avrebbe ucciso Christine non avrebbe mai abbandonato Eric il ragionamento non fila la notorietà del crimine segue Michael ovunque vada gli estranei che avevano letto del caso sul giornale rallentavano mentre passavano davanti alla casa gli adolescenti passavano di lì durante la notte facevano chiasso a volte anche fischiando e suonando il clacson Michael decide di vendere la casa poco dopo l'omicidio la mette in vendita anche a basso prezzo ma nessuna acquerente si fa avanti durante i mesi che precedono il processo di Michael gli agenti si fermano regolarmente a casa dei G per parlare con Elizabeth che sta ancora cercando di riprendersi dal trauma di aver scoperto il corpo di Christine suo marito Christopher ormai si è abituato a tornare a casa dal lavoro trovando un'auto della polizia parcheggiata nel vialetto Christopher dichiara i vice sceriffi si fermavano a casa nostra mentre pattugliavano il quartiere a casa c'era mia moglie quindi le avevano riempito la testa di teorie strampalate e stravaganti su Michael che faceva il corriere per le sostanze la spaventarono a morte continuavano a dirle devi stare attenta non sai cosa potrebbe fare quell'uomo i vice sceriffi in effetti riescono a convincere Elizabeth tanto che la sua testimonianza sarebbe stata parte dell'attesi dell'accusa Elizabeth infatti non solo aveva scoperto il corpo di Christine ma aveva anche sentito alcuni dei commenti poco gentili che Michael faceva a sua moglie sebbene Michael non fosse una persona espansiva il suo stoicismo e la sua apparente mancanza di dolore per Christine non facevano che alimentare l'ansia di Elizabeth rimase sbalordita nel vederlo due giorni dopo il funerale di Christine eliminare le calendule alla fine del suo vialetto lei sapeva che Christine le aveva piantate nonostante Michael non fosse d'accordo non importava che i fiori fossero già passiti nella calura estiva o che Michael avesse abbellito il giardino per attirare potenziali acquirenti al fine di vendere la casa nel contesto di un'indagine per omicidio l'abbattimento delle calendule assume una dimensione sinistra successivamente fa un'altra cosa che lascia Elizabeth di stucco un amico pulisce e ridipinge la camera da letto principale e Michael torna a dormire lì sul letto dove Christine era stata uccisa era chiaramente ancora sotto shock aveva anche iniziato a tenere un fucile con l'impugnatura a pistola accanto a sé mentre dormiva ma tutti questi elementi presi insieme ovvero le calendule il letto e le osservazioni caustiche che usava a fare a Christine danno l'impressione di un uomo duro insensibile impertinente e senza dubbio in grado di uccidere a rafforzare questa opinione è la decisione del medico legale della contea di Travis Roberto Baiardo colui che aveva eseguito l'autopsia di Christine di modificare l'ora stimata della morte originariamente basandosi sulla sua convinzione che avesse cenato fino alle 23 Baiardo aveva sostenuto che l'ora della morte poteva estendersi fino alle 6 ossia mezz'ora dopo che Michael si era diretto al lavoro ma il medico legale avrebbe poi testimoniato in tribunale di aver preso quella decisione quando non sapeva tutti i fatti non sapeva quando Christine aveva consumato il suo ultimo pasto Baiardo infatti cambiò la sua stima poco dopo che lo sceriffo Boutwell e il procuratore distrettuale Anderson visitarono il City Grill e recuperarono una ricevuta della carta di credito che mostrava che Michael aveva pagato il pasto alle 21 e 21 alla luce di ciò Baiardo dichiarò che Christine era morta prima del luna di notte questa conclusione si basava su un esame del contenuto del suo stomaco parzialmente digerito un metodo notoriamente impreciso per determinare l'ora della morte che non era riconosciuto nemmeno 26 anni fa come scienza valida la matematica di Baiardo sfidava anche la logica sebbene i morton avessero cenato più o meno due ore prima aveva cambiato l'ora stimata della morte in modo più netto di quasi cinque ore tuttavia la sua conclusione era cruciale per il caso oltre a Eric l'unica persona che era stata con Christine tra le 21.30 e le 1.30 era Michael una valutazione del 2004 in appello della metodologia di Baiardo nel caso morton da parte del noto patologo forense Michael Baden ex capo medico legale di New York City ed esperto nel suo campo indica che il lavoro del medico legale era profondamente viziato in questo caso secondo Baden Baiardo non disponeva di quei dati considerati critici che gli avrebbero permesso di fare una valutazione più attendibile il mio studio sul caso rivela una serie di gravi errori nella metodologia utilizzata dal medico legale scrive Baden in una dichiarazione giurata non sono state fatte osservazioni adeguate sulla presenza di rigor mortis livor mortis o algor mortis ossia l'irrigidimento del corpo la stabilizzazione del sangue o il cambiamento della temperatura corporea che sono le misure tradizionali che assistono i patologi forensi nel determinare l'ora della morte poche settimane dopo che Baiardo aveva cambiato la stima dell'ora della morte il procuratore distrettuale Anderson che aveva espresso riserve sulla forza delle prove della pubblica accusa si sente abbastanza sicuro del caso da presentarlo a un gran jury quando l'udienza viene convocata Boutwell è l'unico testimone chiamato sulla base della sua testimonianza il gran jury incrimina Michael per omicidio di primo grado al processo Anderson fa affidamento sulle conclusioni di Baiardo per sostenere il caso il 10 febbraio 1987 quando inizia il processo contro Michael l'uomo indossa un abito elegante bacia suo figlio sulla fronte e lo affida a sua madre Patricia che si è spostata da Kilgore con suo padre Billy per dare una mano durante il processo Michael non aveva inscatolato nessuno degli effetti personali che riempivano la casa con quattro camere da letto o preso accordi per le cure di Eric nel caso in cui fosse stato condannato data la mancanza di prove contro di lui si sentiva cautamente ottimista sul fatto che 12 persone non sarebbero state in grado di dichiararlo colpevole oltre ogni ragionevole dubbio guida il suo pick up fino a casa dei suoi avvocati Bill Ellison e Bill White White è un ex soldato della marina ed ex pubblico ministero quando Michael arriva White che è impegnato a leggere attentamente i suoi appunti gli lancia le chiavi della sua Porsche e gli dice di guidare una scena tranquilla li accoglie quando arrivano al tribunale nella piazza principale di Georgetown durante la preparazione al processo Ken Anderson il procuratore distrettuale si immerge nei dettagli del caso l'uomo sa di trovarsi di fronte a formidabili oppositori entrambi gli avvocati difensori avevano precedenti impressionanti e Ellison era stato uno dei professori di legge di Anderson quella mattina rivolgendosi alla giuria di 5 uomini e 7 donne il procuratore distrettuale espone la sua teoria sul caso sostenendo che la notte del suo compleanno Michael si era arrabbiato dopo che Christine aveva rifiutato le sue advance aveva noleggiato una videocassetta esplicita e più guardava quella videocassetta esplicita più si arrabbiava dice Anderson ha preso una specie di oggetto contundente probabilmente una mazza ed è andato in camera da letto per picchiare ripetutamente a morte sua moglie Anderson continua spiegando che Michael aveva inseguito inscenato un furto con scasso per coprire le sue tracce anche se aveva fatto un pessimo lavoro tirando fuori solo quattro cassetti e svuotandoli ha anche deciso che avrebbe scritto un biglietto come se sua moglie fosse ancora viva continua Anderson così ha scritto il biglietto fingendo che fosse ancora viva e l'ha lasciato in bagno il motivo è lampante per Anderson quante volte i mariti picchiano a morte le loro mogli perché quest'ultime non vogliono fare cose intime Anderson insiste dicendo alla giuria che Michael aveva preso la borsa di Christine la sua calibro 45 l'arma del delitto e se ne era sbarazzato prima di presentarsi al lavoro in assenza di prove concrete Anderson fa affidamento sui testimoni più fragili chiamando come sua prima testimone Rita Kirkpatrick la quale fornisce seppur con esitazione alcuni fatti sulla vita di sua figlia Christine è seguita da Elizabeth G che dipinge il ritratto di un matrimonio infelice racconta alla giuria delle frequenti discussioni dei Morton e di come una volta aveva sentito Michael esclamare puttana vai a prendermi una birra descrive vividamente il ritrovamento del corpo di Christine e quanto Michael si fosse mostrato distaccato nelle settimane successive quando Anderson le chiede di raccontare cosa avesse fatto due giorni dopo il funerale di Christine Elizabeth si emozionò si fermò un momento per riprendersi poi guardò Michael e disse ha eliminato le sue calendule basandosi sull'idea che Michael odiava sua moglie Anderson lo etichetta come deviato intimamente nonostante le proteste della difesa il giudice Lott permette al procuratore distrettuale di mostrare ai giurati i primi due minuti del video per adulti che Michael aveva noleggiato con il pretesto che sarebbe servito a stabilire il suo stato d'animo prima dell'omicidio il ritratto di Michael creato da Anderson si oscura ancora di più dopo che la sierologa del dipartimento di pubblica sicurezza del Texas Donna Stanley testimonia che una macchia sul lenzuolo dei Morton conteniva seme coerente con il gruppo sanguigno di Michael Anderson usa la testimonianza dell'analista Donna Stanley per suggerire uno scenario spaventoso dopo aver picchiato a morte sua moglie Michael si era toccato sul suo corpo senza vita l'onere per lo stato di provare oltre ogni ragionevole dubbio che Michael aveva ucciso Christine viene probabilmente ridotto una volta che viene etichettato come sadico visto attraverso quella lente Michael è condannato quando crolla mentre Anderson mostra una serie di foto macabre della scena del crimine la sua reazione non viene vista come un momento di dolore ma come il rimorso di un uomo colpevole sebbene il caso rimanga del tutto circostanziale Anderson fornisce dettagli sufficienti per far sembrare Michael colpevole William Dayhuff il marito del capo di Christine all'All State prende la parola per dire che ricordava che Michael portava un manganello nel suo pick up per proteggersi quando lavorava di notte pulendo i parcheggi dopo la chiusura del negozio avendo introdotto l'esistenza di una potenziale arma del delitto Anderson chiama Bayardo al banco dei testimoni per fornire una testimonianza che in effetti avrebbe collocato Michael sulla scena del crimine Bayardo dice alla giuria che Christine era morta entro quattro ore dal consumo del suo ultimo pasto anche se aggiunge che l'ora stimata della morte era un'opinione basata sulla sua esperienza e non una dichiarazione scientifica ogni giorno all'ora di pranzo quando l'aula del tribunale si svuotava per un'ora di pausa Michael rimaneva lì era troppo turbato per mangiare la finestra della vecchia aula del tribunale piena di spifferi offrono una vista sulla piazza principale di Georgetown e lui spesso guarda fuori fissando le persone sottostanti che si occupavano dei loro affari i suoi avvocati sembrano sempre più ansiosi spesso rinunciano al pranzo per studiare i documenti per prepararsi alle testimonianze del pomeriggio durante la fase che aveva preceduto il processo Anderson aveva divulgato solo le informazioni più rudimentali sull'indagine aveva consegnato il rapporto dell'autopsia e le foto della scena del crimine ma si era battuto per non divulgare praticamente tutto il resto persino i commenti che Michael aveva fatto a Boatwell e Wood il giorno dell'omicidio non avevo mai sentito parlare di un pubblico ministero che nasconde le dichiarazioni orali di un imputato ai suoi stessi avvocati dice Allison quello che Allison e White hanno dalla loro parte è uno statuto del Texas che richiede alle forze dell'ordine di consegnare tutti i loro rapporti note una volta che avessero preso posizione tuttavia quando Boatwell sale sul banco dei testimoni il terzo giorno del processo presenta meno di sette pagine di appunti scritti a mano che insieme a un breve rapporto che non ha portato con sé rappresentavano tutta la documentazione sul caso ancora più strano Boatwell è l'unico testimone dell'accusa Anderson non chiama mai Wood che si identifica in un'udienza preliminare come investigatore principale del caso al banco dei testimoni è una decisione mistificante da parte dell'accusa ci sono molte ragioni per cui Anderson avrebbe potuto decidere di non far testimoniare Wood forse è un pessimo testimone che sarebbe stato tratto in inganno nel controinterrogatorio o forse Anderson sta tentando di incastrare la difesa cercando di far chiamare Wood da loro anche se è un testimone avverso c'è anche un'altra possibilità non chiedendo a Wood di testimoniare lo Stato non è obbligato a consegnare i suoi rapporti o appunti sebbene per legge lo Stato fosse tenuto a rivelare qualsiasi prova a discarico con le informazioni limitate che hanno Allison e White creano una difesa vigorosa chiamando testimoni esperti che mettono seri dubbi sull'ora della morte stimata da Bayardo ma a differenza dell'accusa non hanno una storia coerente da raccontare per quanto riguarda l'assassino di Christine Allison ammette alla giuria non possiamo rispondere a questa domanda perché non lo sappiamo lui e White intrecciano i fatti di cui sono a disposizione ossia le impronte digitali non identificate la porta scorrevole a vetri sbloccata l'impronta nel cortile per suggerire che un intruso sconosciuto avesse attaccato Christine ma senza accedere agli appunti di Wood non sono in grado di vedere il quadro completo della situazione non sono a conoscenza dei rapporti su un misterioso furgone verde dietro la casa dei Morton e non capiscono l'importanza della prova scartata ovvero la bandana con una macchia di sangue che era stata recuperata a circa 100 metri dalla scena del crimine alla fine né Alison né White ne fanno menzione durante il processo né discutono riguardo la domanda spaventosa che Eric aveva fatto a Michael sull'uomo sotto la doccia i due avvocati sanno che Eric era a casa al momento del crimine e avrebbe potuto vedere qualcosa ma sanno anche che le possibilità che il giudice Lot avrebbe permesso a un bambino di tre anni di testimoniare sono scarse e temono che Michael comunque si sarebbe opposto l'uomo è molto protettivo nei confronti di Eric non permette ai suoi avvocati di parlare con lui del caso quando lo stesso Michael prende posizione il quinto giorno del processo risponde con calma e fermezza alle domande che gli vengono poste ma non mostra il senso di devastazione che avrebbe potuto commuovere le 12 persone che avrebbero emesso il verdetto e Anderson invece a creare una performance a dir poco istrionica a un certo punto le lacrime gli irrigano il viso mentre si rivolge alla giuria e durante il controinterrogatorio grida così forte che le persone in attesa nel corridoio fuori dall'aula possono sentirlo Anderson dice non è un dato di fatto che tu hai preso quella mazza e l'hai picchiata? no risponde Michael e l'hai picchiata? ripete Anderson abbassando di nuovo le braccia no insiste Michael quando hai finito di picchiarla cosa indossavi a letto? insiste Anderson non l'ho picchiata ribatte deciso Michael cosa indossavi a letto? chiede di nuovo Anderson niente dice Michael niente e quando hai finito di picchiarla ti sei toccato? chiede di nuovo Anderson no risponde di nuovo Michael e hai preso il sangue di tua moglie morta mentre la picchiavi e l'hai schizzato sulla foto del tuo bambino vero? insiste Anderson no ripete Michael ormai con la voce rotta si sta per mettere a piangere durante le discussioni conclusive Anderson riformula alcune delle sue prove più traballanti come prove ferre della colpevolezza di Michael facendo eco al controinterrogatorio di Michael Anderson suggerisce che il manganello non è solo un'arma che possiede per difendersi ma lo strumento che ha usato per picchiare selvaggiamente sua moglie l'ora della morte stimata da Bayardo che il medico legale qualificava come un'opinione non come un fatto scientifico diventa a questo punto una verità incontrovertibile la scienza medica mostra che questo imputato ha ucciso sua moglie dice Anderson alla giuria riferendosi alla testimonianza di Bayardo Alison e White a loro volta forniscono argomentazioni conclusive appassionate che cercano di persuadere i giurati sul fatto che l'accusa non ha affatto dimostrato la sua tesi alla fine quello che ha l'accusa è il punto di vista di Anderson su Michael è spietato è amorale e al di là di ogni speranza dice il procuratore distrettuale oscurando l'eseguità delle prove a suo carico i giurati deliberano per meno di due ore anche se 11 di loro erano pronti a condannare Michael fin dall'inizio quando viene eletto il verdetto di colpevolezza Michael si sente male e deve essere sostenuto da uno dei suoi avvocati alla fine ricade sulla sedia appoggia la testa sul tavolo della difesa e scoppia a piangere vostro onore non sono stato io insiste prima di essere condannato all'ergastolo questo è tutto quello che posso dire non sono stato io Allison viene perseguitato dal verdetto per gli anni a venire e alla fine decide di fondare il Center for Actual Innocence presso la University of Texas School of Law si ferma in aula dopo che Michael viene portato via in manette sia lui che il pubblico ministero Mike Davis che aveva assistito Anderson durante il processo rimangono per chiedere ai giurati il loro punto di vista sul caso è durante le loro discussioni nella sala della giuria che Allison sente per il caso Davis il pubblico ministero fare una dichiarazione alquanto sorprendente l'uomo dice a diversi giurati che se gli avvocati di Michael avessero letto i rapporti di Wood avrebbero potuto sollevare più dubbi di quanti ne abbiano sollevati Davis dirà sotto giuramento di non ricordare di aver fatto una simile affermazione una domanda però resta cosa c'era nei rapporti di Wood con le mani incatenate in grembo Michael guarda fuori dal finestrino dell'auto della polizia mentre i terreni agricoli ondulati a est di Georgetown cedono gradualmente il posto ai boschi di pini del Texas orientale due agenti dello sceriffo della contea di Williamson siedono sul sedile anteriore stanno chiacchierando mentre percorrono le strade a due corsie che portano a Huntsville Michael a quel punto aveva trascorso poco più di un mese nella prigione della contea in attesa di essere trasferito alla custodia statale durante quel periodo aveva conosciuto diversi detenuti della contea che conoscevano bene il dipartimento penitenziario del Texas gli avevano dato tre consigli da non dimenticare mai tieni la bocca chiusa gli occhi aperti e combatti sempre in prigione non importava se vincevi o perdevi quando raggiungono Huntsville gli agenti lo lasciano presso l'unità diagnostica la struttura di accoglienza dove avrebbe trascorso le settimane successive prima di essere assegnato a una prigione una volta dentro gli viene ordinato di spogliarsi in nudo gli rasano sia i capelli che i baffi gli vengono consegnati dei boxer e gli viene ordinato di mettersi in fila per ritirare i suoi stivali da lavoro mentre l'aspetta Michael studia l'uomo di fronte a lui la cui schiena è segnata da diverse cicatrici si rende conto che sono ferite da taglio ne conta 13 in tutto Michael viene condotto insieme agli altri detenuti nelle docce comuni e poi nella mensa dove mangia velocemente il pasto mentre una guardia carceraria grida loro di mangiare più velocemente alla fine quando le luci si spengono alle 10 e mezza Michael si sdraia nella sua cuccetta un materasso sottile con una struttura in metallo sporadicamente durante la notte può sentire i detenuti chiamarsi l'un l'altro imitando diversi suoni di animali come ad esempio il canto di un gallo o ancora un cane che abbaia che risuonano attraverso il blocco delle celle anche allora mentre giace al buio ad ascoltare la cacofonia delle voci intorno a lui Michael sente che un giorno sarebbe stato vindicato semplicemente non sapeva come o quando sarebbe arrivato quel giorno nel 12 aprile del 1987 Michael Morton si siede per scrivere una lettera vostro onore inizia sono sicuro che vi ricordate di me sono stato condannato per omicidio dal vostro tribunale nel febbraio di quest'anno scrive ogni parola con cura seduto a gambe incrociate sul letto più alto della sua cella presso l'unità carceraria di Wynn a Huntsville mi è stato detto che è lei a decidere se rivedrò mai mio figlio Eric non lo vedo dalla mattina in cui sono stato condannato mi manca terribilmente so che ha chiesto di me riferendosi alle dichiarazioni di innocenza fatte durante il processo prosegue devo ribardire la mia innocenza non ho ucciso mia moglie non puoi immaginare come sia perdere la propria moglie come è capitato a me e poi essere falsamente accusato e condannato per questo terribile crimine prima mia moglie e ora forse mio figlio presto o tardi la verità verrà fuori l'assassino verrà catturato e questo incubo finirà prego che l'ufficio dello sceriffo mantenga una mente aperta non è un peccato ammettere un errore nessuno è perfetto nello svolgimento del proprio lavoro non so cos'altro dire se non questo giuro su dio che non ho ucciso mia moglie per favore non mi porti via anche mio figlio la sua cella di cemento senza finestre che condivide con un altro detenuto misura circa un metro per tre se allunga le braccia può toccare le pareti su entrambi i lati un piccolo armadietto di metallo fissato al muro contiene uno dei pochi resti che ancora possiede della sua vita precedente una fotografia di eric di quando aveva tre anni scattata poco prima dell'omicidio c'è anche una foto della sua defunta moglie Christine una foto che Michael aveva scattato anni prima aveva i capelli raccolti stava distogliendo lo sguardo dalla telecamera ma sorrideva leggermente le foto della scena del crimine sono ancora fresche nella mente di Michael ma se si concentra l'orrore di quelle immagini diminuisce Christine con i capelli umidi e sorridente ecco come voleva ricordarla la condanna innesca un'astra battaglia per l'affidamento tra la famiglia di Christine che come molte persone nella vita di Michael arrivano a credere che fosse colpevole e i genitori di Michael la decisione su chi avrebbe ricevuto la custodia di Eric che deve essere risolta dal giudice distrettuale William Lott che aveva anche presieduto il processo contro Michael Michael era preoccupato all'idea che la famiglia di Christine ottenesse la custodia perché probabilmente non avrebbe più visto suo figlio due settimane dopo aver inviato la sua prima lettera al giudice Lott Michael ne scrive un'altra mio figlio ha perso sua madre il suo benessere psicologico potrebbe derivare dal fatto di vedere il suo unico genitore sopravvissuto alla fine la custodia di Eric viene assegnata alla sorella minore di Christine Mary Lee Kirkpatrick ma uno psichiatra infantile le raccomanda di far conoscere ad Eric suo padre così il giudice Lott consente a due visite supervisionate all'anno Mary Lee accompagna Eric a Hounsville ogni sei mesi per vedere suo padre a quattro anni quando iniziano le visite all'inizio Eric è ignaro di ciò che lo circonda gioca con le sue automobiline lungo i tavoli di plastica nell'area delle visite imitando i suoni del motore parla delle cose che ama i dinosauri i fumetti l'astronomia il suo cane crescendo passa a descrivere tutti i distintivi di merito che aveva guadagnato nei boy scout e sui trionfi nella little league Mary Lee siede sempre accanto a lui la sua espressione resta impassibile ed è impossibile da decifrare per il bene di Eric sembra determinata a rendere le riunioni obbligatorie a cui si era strenuamente opposta il più normali possibile sfoglia delle riviste mentre Eric e suo padre parlano a volte alza lo sguardo per unirsi a loro Michael cerca di fingere che non ci sia nulla di insolito in quell'accordo parla con suo figlio degli alti e bassi degli Astros una franchigia di baseball professionistico con sede nella città di Houston o dei falliti tentativi di rimonta degli Oilers una squadra canadese di hockey sul ghiaccio durante i mesi tra una visita e l'altra Michael scrive delle lettere a Eric ma Mary Lee non incoraggia la corrispondenza rimane quindi una conversazione a senso unico nel corso degli anni man mano che Eric cresce Michael cerca di non sorprendersi ogni volta che lo vede arrivare ma i cambiamenti lo spaventano sempre rimane sbalordito la prima volta che sente Eric chiamare Mary Lee mamma i ricordi del ragazzo di sua madre sono ormai svaniti certo l'ho perso scrive Michael nel suo diario dopo una visita quando Eric ha dieci anni sa poco niente di me o del poco tempo che abbiamo passato insieme quando Eric compie 13 anni il tenore delle loro visite cambia Eric è sempre distante sembra impaziente di andarsene Michael sa che il ragazzo aveva iniziato a fare domande durante un viaggio nel Texas orientale per incontrare i nonni paterni aveva chiesto se fosse vero che suo padre aveva ucciso sua madre temendo di alienare ulteriormente Eric Michael non cerca mai di coinvolgerlo in una conversazione sul caso o di convincerlo del fatto di essere stato condannato ingiustamente i silenzi che si allungano tra loro diventano così strazianti che Michael si ritrova spesso a rivolgersi a Mary Lee per fare conversazione sono previste due ore per le visite ma quelle ore passano così lentamente che sembrano un'eternità il loro ultimo incontro è così breve che Eric e Mary Lee si siedono a malapena Eric che ormai ha 15 anni non riesce a guardare Michael negli occhi non voglio più venire qui dice con voce strozzata Michael prende in considerazione l'idea di ringraziare Mary Lee per aver messo suo figlio contro di lui o di dire a Eric che tutto ciò che era stato portato a credere fosse una bugia ma mentre guarda suo figlio che fissa il pavimento tiene quei pensieri per sé Michael gli dice non ti costringerò a venire a trovarmi puoi tornare in qualsiasi momento se cambi idea prima di andarsene dice a Mary Lee abbi cura di mio figlio per me Michael morto nel 22 gennaio 2002 dalla sua cella nell'unità carceraia di Ramsey a sud di Houston scrive anche se ho chiesto di essere trasferito qui per il programma del master venire qui è stato uno shock sta rispondendo a una lettera ricevuta di recenti da Mario Garcia un suo ex collaboratore del Safeway di Austin dove aveva lavorato prima di essere mandato in prigione 15 anni prima a parte i suoi genitori e sua sorella minore che fanno il viaggio di andata e ritorno di 500 miglia dal Texas orientale per incontrarlo quando possono Garcia è l'unica persona della vita precedente di Michael che è rimasta in contatto con lui praticamente tutti gli altri credono che sia colpevole quando sono arrivato qui hanno messo tutti i nuovi arrivati in campo scrive Michael riferendosi ai detenuti che sono stati assegnati a lavorare nella fattoria della prigione era successo tre anni prima ora a 47 anni è troppo vecchio per fare un duro lavoro fisico tutto il giorno il suo viso si è adattato ai contorni più morbidi della mezza età e i suoi capelli biondo sabbia stanno diventando grigi cerca di immaginare dai 20 ai 40 uomini continua Michael spalla a spalla anca a anca che fanno oscillare le loro zappe all'unisono e tagliano erbacce che giuro su dio sono alti dai 2 ai 3 metri oppure nelle brutte giornate bisogna lavorare in un enorme canale di irrigazione ridurre le sponde fino alla terra nuda e poi trascinare la vegetazione sminuzzata lungo le sponde è un lungo lavoro duro e massacrante a volte i ragazzi svengono e devono essere portati in ospedale durante tutto questo delle guardie armate vanno in giro a cavallo gridando incoraggiamenti le prime settimane mi hanno quasi ucciso durante i suoi 15 anni di prigione Michael è sopravvissuto a esati torride senza aria condizionata quando all'interno del vecchio penitenziario di mattoni rossi si raggiungevano temperature elevate per settimane e settimane ha respinto le attenzioni indesiderate di un detenuto un siccario di una banda carceraria che in seguito morirà di Aids invitandolo nella sua cella e sbattendogli contro la gola un ripiano di un tavolo improvvisato è stato tenuto sveglio dai detenuti che piangevano di notte e dal suo stesso desiderio di rivedere il figlio Eric e sua moglie Christine la cui assenza si sente sempre di più con il passare degli anni ma nelle sue lettere a Garcia Michael cerca di scrivere qualcosa di divertente dice mi sono imbattuto in una tollerabile collezione di disadattati poco intelligenti ma nonostante tutto sto bene quando allude alle umiliazioni della sua vita quotidiana aggiunge una forte dose di umorismo come ad esempio quando soprannomina un'influenza intestinale che travolge la popolazione carceraria durante un inverno la tempesta bruna spiega con orgoglio di star studiando duramente per il suo master in letteratura aveva già conseguito la laurea in psicologia durante i primi anni della sua incarcerazione e ama leggere Omero e Dante Eric è un argomento ricorrente nelle sue lettere a Garcia il ragazzo viene cresciuto dalla sorella di Christine Mary Lee che insieme al resto della sua famiglia arriva a credere che sia colpevole sembra difficile da credere ma Eric ha 18 anni scrive Michael a gennaio questa primavera si diplomerà in una scuola superiore cattolica privata a Houston i gesuiti dovrebbero essere bravi a stipare informazioni nella testa degli adolescenti quindi spero che sia pronto per il college dico spero che sia pronto perché non lo so ci siamo allontanati alcuni anni fa ha raggiunto l'età in cui venire a trovare il suo vecchio non era in cima alla lista delle cose da fare infatti Eric come già detto quando aveva 15 anni aveva interrotto ogni contatto con suo padre Michael non manca mai di esprimere la sua gratitudine a Garcia per aver dedicato del tempo a scambiarsi lettere con lui non importa come finirà la mia vita ti penserò sempre come uno dei migliori Michael firma una lettera scrivendo adios per ora amico mio in mezzo alla confusione della posta delle vacanze che arriva a casa di Bill Ellison ogni dicembre c'è sempre una busta che spicca distinta dall'indirizzo del mittente della prigione e della grafia familiare di Michael il biglietto di Natale all'interno in cui Michael ringrazia Ellison per averlo difeso con tanta forza durante il processo lo emoziona è sicuro da sempre che Michael sia innocente ed è pieno di rammarico per non essere stato in grado di convincere la giuria di questo secondo Ellison qualcosa era andato storto durante i sei giorni del processo al tribunale della contea di Williamson a Georgetown nel pomeriggio in cui Michael era stato condannato Ellison e uno dei pubblici ministeri del caso Mike Davis si erano soffermati dopo il processo per parlare con i giurati mentre discutevano del caso Ellison sente quella che crede essere una missione scioccante come già vi ho detto secondo Ellison Davis aveva detto a diversi giurati che se gli avvocati di Michael fossero stati in grado di ottenere i rapporti dell'investigatore principale del caso il sergente Don Wood avrebbero potuto sollevare più dubbi di quanto non abbiano fatto Ellison era immediatamente tornato di corsa nel suo ufficio ad Austin per appuntarsi i commenti di Davis durante due udienze preliminari gli avvocati si erano scontrati su quali prove lo Stato avrebbe dovuto o non avrebbe dovuto consegnare come ricordava Ellison il giudice distrettuale dello Stato William Lott aveva ordinato ad Anderson di fornirgli tutti i rapporti e gli appunti di Wood prima del processo in modo che potesse determinare se contenevano materiale Brady il termine si riferisce alla storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1963 in Brady v Maryland il quale sostiene che i pubblici ministeri sono tenuti a consegnare qualsiasi prova favorevole all'imputato in caso contrario si considera una violazione di Brady o una violazione del diritto costituzionale dell'imputato a un giusto processo il giudice Lott aveva esaminato tutto ciò che Anderson gli aveva dato e aveva stabilito che non era presente materiale Brady in seguito il giudice aveva depositato le carte in un fascicolo sigillato che poteva essere aperto solo dalle corti d'appello per la revisione in un secondo momento ripensando a quella serie di eventi Alison ha un pensiero terribile e se Anderson in effetti non avesse fornito a Lott tutti i rapporti gli appunti di Wood è questa idea che spinge la mozione di Alison per un nuovo processo che viene respinta e il suo primo appello che presenta nel 1988 un anno dopo la dichiarazione di colpevolezza di Michael quel dicembre la terza corte d'appello confermò la condanna di Michael negando l'affermazione di Alison secondo cui il materiale Brady era stato trattenuto la decisione chiarisce che la corte riteneva che il fascicolo sigillato di Lott che i suoi giudici si erano presi il tempo di aprire ed esaminare contenesse la totalità degli appunti di Wood tuttavia Alison è convinto che qualcosa non vada impugna la sentenza della corte d'appello penale ma l'anno successivo i giudici si rifiutano di riconsiderare la decisione del tribunale di grado inferiore questo è un duro colpo per gli sforzi di Alison non si è mai arreso completamente ma ci è vicino non sapendo più dove sbattere la testa chiama un vecchio amico il noto avvocato difensore penale Barry Sheck Bill Ellison gli spiega che è ossessionato da questo caso sente che Michael è innocente che il procuratore distrettuale Anderson sta nascondendo qualcosa Barry Sheck è uno dei primi sostenitori del test del DNA una nuova tecnologia forense che stava emergendo alla fine degli anni 80 sebbene quel test fu utilizzato per la prima volta per abbinare gli autori ai loro crimini Sheck e suo partner legale Peter Newfield si erano convinti che il test del DNA potesse essere utilizzato per altro scopo scagionari falsamente accusati nel 1992 i due avvocati fondano a New York un'organizzazione legale senza scopo di lucro chiamata Innocent Project e iniziano a occuparsi di casi in cui il materiale biologico proveniente dalle scene del crimine può ancora essere testato col tempo questa pratica avrebbe trasformato il destino di tutte quelle persone condannate ingiustamente ma la tecnologia era agli inizi e richiedeva grandi quantità di DNA che spesso non era disponibile nonostante questi ostacoli Sheck e Newfield riescono a vincere in numerosi casi e man mano che la notizia del loro successo si diffonde vengono inondate di richieste di aiuto da tutto il paese Bill Ellison tormenta Barry Sheck e i suoi colleghi per anni per affrontare il caso di Michael ma sono sommersi da altri casi quindi Barry Sheck continua a dire ad Ellison che arriveranno anche a studiare il caso di Michael ma ci sarebbe voluto del tempo in prigione Michael apprende qualcosa sulla scienza dell'analisi del DNA grazie ai numerosi articoli di riviste che legge sull'argomento ma non è di certo un esperto mentre aspetta che Sheck arrivi al suo caso ottiene un'ingiunzione del tribunale con l'aiuto di Ellison e di un altro avvocato per consentire il test del DNA su una macchia di seme trovata sul lenzuolo del letto dove era stata uccisa Christine Michael non sapeva ancora quasi nulla di quello che era successo a sua moglie era rincasato dal lavoro il giorno in cui era stata uccisa aveva scoperto che la loro casa era invasa dalle forze dell'ordine le pareti e il soffitto della loro camera da letto erano sporchi di sangue perché lei era a letto al momento dell'omicidio in camicia da notte con le persiani chiuse Michael credeva che fosse stata aggredita poco dopo che lui era andato al lavoro quella mattina presto tuttavia la tecnologia si rivela troppo primitiva per produrre un risultato su un campione così piccolo e due cicli di test prima del 1991 e poi nel 1994 non danno alcuna conclusione negli anni successivi il processo diventerà più sofisticato fino a quando riusciranno ad amplificare il DNA o duplicare quantità anche minime di materiale genetico in modo che ci sia un campione abbastanza grande da analizzare Michael ottiene un altro ordine del tribunale per riesaminare le lenzuola i risultati che riceve nel 2000 non identificano l'assassino di Christine ma contraddicono una sinistra teoria dell'accusa ossia che dopo aver ucciso Christine Michael si fosse toccato sul suo cadavere era un'immagine sadica che il procuratore distrittuale Anderson aveva ripetutamente affermato durante il processo e aveva contribuito a trasformare le opinioni dei giurati contro Michael ma la macchia si è scoperto non era composta da solo seme era una combinazione del seme di Michael e del fluido intimo di Christine a indicare che era accaduto qualcosa di molto più banale nei giorni o nelle settimane precedenti l'omicidio i Morton avevano avuto un rapporto nel 2002 l'Innocent Project è pronto ad affrontare il caso di Michael l'avvocatessa Nina Morrison che ha ottenuto più di 20 assoluzioni grazie al DNA contatta un avvocato di Houston di nome John Raleigh per lavorare pro bono come suo co-consulente a prima vista la scelta di contattare Raleigh è insolita è un avvocato civile non ha mai praticato il diritto penale in precedenza lui e Morrison avrebbero spinto per il test del DNA su un'ampia gamma di prove raccolte durante le indagini ritagli di unghie tamponi intimi orali prelevati all'autopsia di Christine la sua camicia da notte alcuni capelli trovati nella sua mano e una bandana insanguinata che era stata scoperta circa 100 metri dalla casa dei Morton Raleigh era ottimista pensava che la contea di Williamson avrebbe risposto positivamente alla richiesta dei test del DNA se l'omicidio fosse accaduto nei giorni nostri le forze dell'ordine avrebbero senza dubbio testato le prove per cercare di trovare l'assassino di Christine quindi inizialmente Raleigh non pensava che si sarebbero opposti a quel punto Anderson aveva lasciato l'ufficio da procuratore distrettuale in quanto nel 2001 il governatore Rick Perry lo aveva nominato giudice distrettuale ma si mantiene in stretto contatto con il suo successore il procuratore distrettuale John Bradley per 11 anni Bradley fu il fedele primo assistente di Anderson e alla fine diventò il suo sostituto lui nativo di Houston era l'ideale per portare avanti l'eredità di Anderson una figura sfacciata e talvolta polarizzante che si era fatta alle ossa da giovane nell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Harris Bradley aveva affinato il suo approccio duro grazie al procuratore distrettuale Johnny Holmes che aveva ottenuto più condanne a morte di qualsiasi procuratore distrettuale nella storia del Texas dopo essere diventato procuratore distrettuale della contea di Williamson John Bradley rilascia comunicati stampa del lui stesso redatti che pubblicizzano le numerose condanne e le sentenze spesso draconiane vinti dai suoi pubblici ministeri è noto per aver costretto gli avvocati difensori ad accettare dei patteggiamenti pre-incriminazione per i loro clienti che spesso richiedono alle persone che sono accusate di crimini di dichiararsi colpevoli prima di sapere quanto siano forti o deboli le prove dello Stato contro di loro la sua posizione combattiva nei confronti degli imputati si adatta facilmente a un ufficio creato da Anderson mentre Rilay spera in una cooperazione Morrison sa che probabilmente avrebbero incontrato resistenza sulla loro iniziativa per il test del DNA gli avvocati al di fuori della contea di Williamson non si sono mai sentiti particolarmente i benvenuti a Georgetown e una richiesta di test del DNA che per sua stessa natura implica che il mentore di Bradley possa aver commesso un grave errore nel perseguire Michael avrebbe sicuramente avuto una fredda accoglienza sebbene Anderson non sia più procuratore distrettuale la sua presenza in tribunale è ancora molto sentita la mozione avrebbe dovuto essere depositata presso il tribunale originale in cui Michael è stato condannato proprio in fondo al corridoio dell'aula del tribunale dove presiede Anderson ora giudice prima di presentare la mozione Rilley chiama il procuratore distrettuale Bradley per presentarsi Rilley fa sapere a Bradley che proviene da una famiglia delle forze dell'ordine suo padre John Weasley Rilley Jr è stato procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale dell'Oklahoma sotto due presidenti e suo fratello Robert è un procuratore federale a Tulsa Rilley spera acconsenta la mozione o come minimo che non si opponga all'inizio Bradley è educato ma dopo la presentazione della mozione chiarisce chi avrebbe combattuto per non fargli ottenere assolutamente nulla Rilley dal canto suo non capisce perché si stia opponendo a dei test per i quali stanno pagando di tasca loro non sarebbe costato nulla alla Contea soprattutto se era così sicuro che Michael era il colpevole in effetti Bradley era generalmente scettico sui test post condanna in parte perché potevano minare la finalità del processo legale quando Morrison e Rilley presentano la loro mozione nel 2005 Bradley si oppone quando il procuratore distrettuale ostacola la mozione le conversazioni di Rilley con lui diventano sempre più contrastanti a un certo punto Rilley gli chiede perché non accetti semplicemente questo test che male può causare Bradley risponde confonderebbe le acque la risposta di Bradley rascia Rilley stupefatto e risponde signor Bradley la verità chiarisce non confonde eppure nonostante la resistenza di Bradley una decisione messa dal giudice del tribunale distrettuale Billy Ray Stubfield nel 2006 da a Morrison e a Rilley una vittoria parziale il giudice accetta di eseguire il test del DNA sulle prove raccolte dalla casa dei Morton ma nega la richiesta di testare la bandana Bradley sostiene che il collegamento della bandana con l'omicidio non può essere provato perché è stata trovata troppo lontano dalla scena del crimine Bradley è disposto a far testare solo il campione di capelli che era stato trovato nella mano di Christine e nient'altro Rilley dice abbiamo sostenuto che le impronte sulla porta a vetri scorrevoli e le impronte nel cortile sul retro hanno stabilito che la bandana fosse caduto lungo la via di fuga dell'assassino me lo immaginavo lui che si asciugava il sangue dalle mani e dalla faccia sulla bandana se la infilava nella tasca posteriore e correva ma Stubfield non la vedeva allo stesso modo quando il test del DNA su ritagli di unghie tamponi camicia da notte i capelli viene completato i risultati sono scoraggianti viene rilevato solo il DNA di Christine e Michael quest'ultimo dunque non può essere escluso Bradley in seguito dice ai giornalisti che Michael e i suoi avvocati stanno impazzendo alla ricerca di un assassino misterioso usa un tono altrettanto spezzante quando Michael viene rilasciato sulla parola nel 2007 dopo aver scontato il primo terzo della sua condanna a 60 anni il procuratore distrettuale pensa che Michael sia un impertinente infatti gli era stato detto da altri detenuti che sarebbe stato idoneo per il rilascio anticipato solo se avesse mostrato rimorso per il suo crimine ma si rifiuta di farlo non avrebbe mai mentito per uscire la sua innocenza era tutto ciò che aveva e infatti sei anni prima Michael aveva toccato il fondo nel 2001 era arrivata una lettera per lui presso l'unità di Ramsey in cui veniva informato che suo figlio aveva deciso di cambiare nome Eric aveva 18 anni all'epoca era stato recentemente adottato da sua zia Mary Lee e suo marito che aveva sposato quando Eric aveva 12 anni che il ragazzo avesse rifiutato il proprio nome era troppo da sopportare per Michael prima della nascita di Eric Christine avrebbe voluto chiamarlo Michael Morton Jr ma Michael si era opposto dicendone che avrebbe preferito che il loro figlio avesse una propria identità distinta e così erano arrivati a un compromesso lo avrebbero chiamato Eric Michael Morton ora Eric Michael Morton non esisteva più è stato allora che mi sono davvero lasciato andare dice Michael niente prima di allora mi aveva fatto crollare né l'omicidio di Chris né il mio arresto né il mio processo né la mia condanna non gli appelli falliti non i risultati di laboratorio che non hanno portato da nessuna parte Eric era ciò a cui mi stava aggrappando era il motivo per cui stavo cercando di provare la mia innocenza quando ho scoperto che aveva cambiato nome ho capito che la riconciliazione non era più possibile non saremmo stati in grado di rimettere insieme i pezzi del nostro fragile rapporto Michael poi aggiunge non ricordo se fu Mary Lee o Eric a scrivermi per dirmelo ma ricordo di essere stato quasi catatonico per almeno una settimana questa non era solo un'altra cosa difficile da superare questa era la fine questa è stata una morte ho letteralmente gridato a Dio ci sei mostrami qualcosa dammi un segno non avevo niente ero esaurito mi sentivo un fallito è stata la supplica più sincera che abbia mai fatto in vita mia passarono un paio di settimane niente nessuna risposta la mia vita non è cambiata subito non è andato tutto a posto all'istante sono stato in prigione per un altro decennio quindi non è come se Dio mi avesse aperto le porte diventare credente è stato un processo lento e organico in cui ho dovuto crescere ma dopo ero diverso non puoi comprare la pace interiore io ce l'avevo durante i cinque anni in cui Michael e i suoi avvocati hanno cercato di far testare la bandana e John Bradley ha cercato con forza di resistere i loro sforzi quella stessa bandana si trovava all'interno dell'ufficio dello sceriffo della contea di Williamson era blu scuro e sparse sul tessuto che era profondamente stropicciato c'erano una serie di piccole macchie di sangue marroni di chi era quel sangue? l'8 gennaio 2010 la terza corte d'appello annulla la decisione del giudice Stubfield e consente che i test sulla bandana vengano eseguiti il giudice G. Alan Woldrop nota che le impronte digitali non identificate sulla porta scorrevole di vetro della casa dei Morton e l'impronta nel cortile sul retro in effetti suggeriscono la presenza di una scia di prove che collegano la bandana alla scena del crimine finalmente qualcuno l'ha detto grazie inoltre suggerisce che il test del DNA potrebbe determinare definitivamente se esiste o meno un collegamento dice se la bandana contiene il sangue di Christine è sufficiente da sola per stabilire una traccia Morrison però non ha grandi speranze insieme a Riley chiede che la bandana sia spedita dalla contea di Williamson in un laboratorio privato a Dallas che possa amplificare piccole quantità di DNA utilizzando la tecnologia più all'avanguardia disponibile ma Bradley insiste affinché la bandana sia invece presentata al laboratorio criminale del dipartimento di pubblica sicurezza per l'analisi anche se quel laboratorio non è attrezzato per amplificare il DNA in una lettera al giudice Stubfield l'avvocato John Rilley che ormai è sempre più impaziente si chiede se l'insistenza di Bradley nell'uso del laboratorio criminale del dipartimento di pubblica sicurezza per l'analisi derivi dal desiderio di causare ulteriori ritardi o ridurre al minimo le probabilità che si ottengano risultati interpretabili dal DNA alla fine dopo 5 mesi Stubfield stabilisce che la bandana oltre a una singola ciocca di capelli che vi è stata trovata devono essere spediti al laboratorio inizialmente richiesto dall'Innocent Project a quel punto il sangue secco su quella bandana è lì da quasi 24 anni testare piccole quantità di prove degradate richiede tempo e le aziende private specializzate nel processo sono molto richieste per un anno intero la bandana blu rimane nel laboratorio di Dallas nel maggio del 2011 viene sottoposto al test che viene completato il mese successivo i risultati di cui Morrison viene informata da una telefonata del laboratorio sono mozzafiato sia il sangue che la ciocca di capelli corrispondono al profilo del DNA di Christine viene anche rintracciato il profilo del DNA di un uomo sconosciuto mescolato al sangue e ai capelli di Christine il DNA di Michael è assente Morrison che già deve arriccharsi a Dallas per lavorare su un altro caso di condanna illecita incontra Rilay all'aeroporto di Dallas Fort Worth per andare a dare la notizia a Michael l'atmosfera nell'auto a noleggio di Morrison quella mattina è euforica è la prima volta durante gli otto anni in cui hanno lavorato insieme che Rilay vede la donna così sicura di avere la possibilità di far uscire Michael di prigione l'impavida laureata Yale ha sempre combattuto l'entusiasmo di Rilay con il cautopragmatismo che ha sviluppato dopo anni passati a gestire prove perdute pubblici ministeri esitanti e un sistema giudiziario lento Michael intuisce che la notizia sia buona quando viene a sapere che Morrison sta arrivando sebbene avesse parlato al telefono con lei per anni non l'aveva mai incontrata di persona prima d'ora quando Morrison e Rilay vengono scortati nell'angusta cabina delle visite dove lui siede ad aspettarli può vedere con i suoi occhi quanto siano euforici preme la mano contro il vetro che li separa in segno di saluto e solleva il telefono dalla sua parte del tramezzo i suoi avvocati parlano animatamente passandosi il ricevitore del telefono avanti e indietro dimostrare un'affermazione di innocenza basata sul DNA richiede la dimostrazione che la giuria non avrebbe ritenuto colpevole l'imputato se i risultati del DNA fossero stati conosciuti al momento del processo farlo tuttavia può richiedere anni gli avvocati di Michael capiscono che Bradley si sarebbe quasi certamente opposto a qualsiasi affermazione di innocenza e che sarebbero seguiti anni di appelli il modo più rapido per riabilitare il suo nome è scoprire se il profilo del DNA dell'uomo sconosciuto corrisponde a uno qualsiasi dei milioni di individui con precedenti condanne archiviati nel database nazionale del DNA dell'FBI solo allora non ci sarebbero stati dubbi sull'innocenza di Michael quando si hanno un nome e una faccia che corrispondono al DNA di solito questo rimuove ogni possibile ipotesi di contaminazione manomissioni o complici inizialmente tuttavia non è noto se il profilo del DNA che è stato estratto da delle macchie di sangue vecchie fosse sufficientemente dettagliato da poter essere confrontato con quelli del database il profilo del DNA viene inserito nel database e il 9 agosto Morrison viene informata che c'è una corrispondenza il suo nome è Mark Alan Norwood un vagabondo con una lunga feddina penale inclusi degli arresti in Texas California e Tennessee per aggressione aggravata con l'intento di uccidere e incendiare inoltre ha dei precedenti per possesso di sostanze e resistenza all'arresto delle vecchie foto segnaletiche rivelano un uomo con grandi baffi cadenti il mento inclinato verso l'alto che guarda la telecamera con uno sguardo gelido quasi 25 anni dopo l'omicidio di Christine Morrison e Riley chiamano Michael per dirgli che l'uomo il cui DNA è stato trovato sulla bandana è stato identificato per quanto evidenti fossero i risultati del DNA all'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Williamson non è pronto ad ammettere che Michael sia stato condannato ingiustamente non appena viene diffusa la notizia che il DNA di un altro uomo è stato identificato Bradley inizia a sminuire il significato della bandana sottolineando che era stata trovata a circa 100 metri dalla scena del crimine non nella casa dei Morton a quel punto Morrison capisce che l'ufficio del procuratore distrettuale è profondamente impegnato nel sostenere che il suo cliente sia il colpevole non capisce fino in fondo quanto la contea di Williamson sia così ossessionata nella sua ricerca fino a quando non è in grado di vedere parti dei rapporti degli appunti del sergente Wood questo materiale che l'Innocent Project ottiene dopo anni di contenzioso con l'ufficio del procuratore distrettuale acquisito attraverso una richiesta di atti pubblici è a dir poco sbalorditivo la pila di vecchi documenti contiene indizi critici che avrebbero potuto aiutare a identificare l'assassino di Christine se fossero mai stati seguiti Michael apprende dal rapporto di un vice sceriffo del 1986 che molti dei suoi vicini avevano visto un furgone verde parcheggiato vicino al terreno vuoto e boscoso dietro la sua casa al momento dell'omicidio e avevano osservato il sautista camminare nell'area ricoperta di vegetazione che si estendeva fino alla sua recinzione legge una nota interna per Wood su una chiamata ricevuta da uno dei parenti di Christine a Phoenix che si riferiva a un assegno che suo suocero le aveva intestato era stato incassato dopo la sua morte con quella che sembrava essere una firma contraffatta la nota interna che non era fermata includeva un appunto per Wood sembrano pensare che la borsa di Christine sia stata rubata sebbene la borsa di Christine fosse scomparsa dalla scena del crimine Anderson aveva accantonato questo dettaglio dicendo alla giuria che Michael aveva organizzato un furto con scasso per distogliere l'attenzione da se stesso era questo senso di certezza che sembrava aver accecato gli investigatori in merito a quello che era sicuramente l'indizio mancato più incredibile all'interno del caso un messaggio telefonico riportato a mano per Wood che informava che la carta di credito di Christine era stata apparentemente utilizzata in un negozio di San Diego due giorni dopo il suo omicidio Larry Miller può identificare la donna affermava il messaggio che includeva un numero da chiamare sembrava che Wood non avesse mai seguito questa pista un applauso a Wood quindi mentre passa al setaccio le carte Michael non prova rabbia è a dir poco sconcertato per la prima volta in quasi 25 anni inizia a fare chiarezza su ciò che è accaduto davvero Michael volta attentamente le pagine si imbatte in una trascrizione di 8 pagine di una telefonata avvenuta tra Wood e la suocera di Michael Rita Kirkpatrick meno di due settimane dopo l'omicidio di Christine mentre studia ogni parola scritta a macchina Michael sente la gore a stringersi gli viene da piangere Rita Kirkpatrick dice a Wood Enric e Dio eravamo soli a casa mia è stata la prima volta che lui e io siamo rimasti soli dalla morte di sua madre mi stavo truccando in bagno Enric ha steso la sua coperta sul pavimento della mia camera da letto poi ha detto mamma dorme tra i fiori poi ha preso a calci la coperta e ha detto mamma alzati Rita spiega a Wood che sul suggerimento di Mary Lee aveva scritto tutto quello che aveva detto suo nipote legge quindi il dialogo avuto con il bambino all'investigatore Enric dice la mamma sta piangendo lei è smettila devi andare via Rita risponde perché piange Enric ribatte perché il mostro è lì Enric dice cosa sta facendo Enric risponde ha picchiato la mamma ha rotto il letto Enric chiede la mamma sta ancora piangendo Enric risponde no la mamma si è fermata Enric ribatte allora cosa è successo Enric risponde il mostro getta una valigia blu sul letto lui è matto Rita chiede era grande Enric risponde sì aveva guanti sì rossi cosa portava nei suoi guanti rossi Enric risponde cestino Enric chiede di nuovo cosa c'era nel cestino Enric risponde legna ebbene il racconto del bambino corrisponde perfettamente alla scena del crimine Christine era stata picchiata nel suo letto tra i suoi capelli erano stati trovati truccioli di legno suggerendo che fosse stata picchiata con un tronco o un pezzo di legno una valigia blu e un cesto di vimini erano stati accattastati sopra il suo corpo ma è l'ultima parte della conversazione di Rita con Enric che Michael trova ancora più sorprendente Enric chiede dov'era papà Enric papà c'era Enric risponde no mamma Enric erano lì proprio come l'avvocato Bill Ellison aveva sospettato più di due decenni prima c'erano prove critiche nei rapporti di Wood prove che avrebbero cambiato l'esito del processo di Michael se la giuria lo avesse saputo ma la trascrizione non è finita Michael leggi con incredulità poiché nel corso delle sei pagine successive Wood non ha fatto una sola domanda pertinente o chiesto informazioni su un momento in cui avrebbe potuto interrogare Enric Wood cercò di convincere Rita Kirkpatrick di una bizzarra teoria secondo cui il grande mostro con i grandi baffi come si riferiva all'assassino un riferimento presumibilmente a una descrizione che gli aveva dato Enric fosse in realtà Michael che indossava la sua attrezzatura da sub subito dopo che i risultati del test del DNA divennero una notizia in prima pagina Michael ricevette una lettera da Margaret Parmenter un'amica di Christine Parmenter si scusava di aver creduto che fosse il colpevole e chiedeva il suo perdono la sua errata supposizione che Michael fosse colpevole era basata su una singola conversazione che aveva avuto con una donna al tribunale della contea di Williamson nel 1987 ho chiamato il tribunale per ordinare una trascrizione perché non era stata in grado di assistere al processo la donna con cui ho parlato mi ha detto che il medico legale ha testimoniato che Chrissy era morta in un momento in cui poteva essere solo con Mike e questo mi è bastato Michael le invia una gentile lettera assolvendola dalla sua colpa riserva la sua rabbia alle autorità della contea di Williamson che crede siano i responsabili della sua ingiusta condanna all'inizio non si sa dove si trovi Mark Alan Norwood il criminale il cui DNA era stato rilevato sulla bandana per evitare che il suo nome venisse pubblicizzato negli atti del tribunale viene chiamato solo John Do erano preoccupati per quello che avrebbe potuto fare se avesse visto il suo nome stampato sui giornali perché pensavano che fosse a rischio di fuga localizzarlo è di fondamentale importanza per gli avvocati di Michael che non credono che l'ufficio del procuratore distrettuale provi lo stesso senso di urgenza anche dopo che la contea di Williamson apre un'indagine su Norwood nell'agosto 2011 Bradley e il suo staff continuano a mettere in discussione l'importanza dei risultati del DNA mettendo in dubbio la prova della bandana per sfatare tale ipotesi Morrison avvia la propria indagine parallela il primo passo è determinare se Norwood avrebbe potuto commettere quell'omicidio se all'epoca viveva fuori dallo stato se fosse stato in prigione con un'accusa non correlata Morrison avrebbe dovuto seguire altre piste anche se non dispone delle risorse a disposizione delle forze dell'ordine per condurre una ricerca a livello nazionale è in grado di attingere una rete di volontari che avevano lavorato con l'Innocent Project su altri casi di condanne illecite la verità è che non hanno molti soldi ma hanno molte persone che vogliono aiutarli gratuitamente di conseguenza hanno a disposizione investigatori privati e avvocati in tutto il paese avevano quindi persone ovunque i volontari si offrono di andare al tribunale più vicino a ritirare i suoi fascicoli sulla base delle informazioni raccolte da queste fonti Morrison è in grado di delineare una linea temporale dettagliata che traccia dove Norwood aveva precedentemente risieduto viveva nella zona di Austin al momento dell'omicidio di Christine ed era anche fuori custodia quindi non era in carcere quel giorno mentre esamina questa linea temporale l'assistente legale di lunga data di John Rilly Kay Canabai fa una scoperta rivelatrice come tutti coloro che hanno lavorato presso lo studio legale di Rilly composto da sei avvocati Canabai era preoccupata per il caso di Michael Canabai ex infermiera oncologica che aveva trascorso la prima parte della sua carriera a prendersi cura di pazienti affetti da leucemia aveva assistito a parecchio dolore ma era rimasta particolarmente colpita dall'ingiustizia del caso di Michael mentre studia la sequenza temporale e la lunga fedina penale di Norwood nota che il criminale seriale non è mai stato accusato di omicidio questa è una curiosa omissione se in realtà è lui l'uomo che ha ucciso Christine Canabai cerca su internet qualsiasi menzione di omicidi irrisolti nei luoghi in cui era passato Norwood con te di Davidson Tennessee con te di Broward Florida con te di Riverside California ma online sono disponibili poche informazioni scopre però che il dipartimento di polizia di Austin ha mantenuto una pagina web dedicata ai cold case ossia ai casi freddi irrisolti mentre scorre le fotografie delle vittime di quei casi vede la foto di una donna di nome Deborah Baker e si blocca quella donna sembra Christine Morton ha i capelli scuri è sulla trentina e infine è una donna attraente la somiglianza è sorprendente Carnaby legge il riepilogo del caso accanto alla foto Deborah Baker è stata vista l'ultima volta la notte del 12 gennaio 1988 non si è presentata al lavoro alla Elliot System il 13 gennaio è stata trovata morta nel letto da un membro della famiglia che si è recato presso la residenza per cercarla era stata picchiata più volte con un oggetto contundente e c'erano prove di un possibile ingresso forzato nella residenza la donna è senza parole chiunque avesse ucciso Deborah Baker aveva usato lo stesso modus operandi dell'assassino di Christine Deborah era stata uccisa appena sette mesi dopo Christine Carnaby vede che l'indirizzo di casa Baker è nell'elenco e lo inserisce su Google Maps quando l'immagine satellitare del quartiere di North Austin si materializza davanti a lei sullo schermo del suo computer nota che la strada in cui aveva vissuto Deborah Baker ossia Duyce Drive corre parallela a Justin Lane dove Norwood viveva in quel momento scrive subito un'email a Morrison chiedendole se i suoi investigatori possono individuare la vecchia residenza di Norwood in Justin Lane mentre aspetta una risposta continua a cercare informazioni online su Deborah Baker presto si imbatte in un blog di giustizia penale su cui la figlia di Deborah Baker Caitlin aveva scritto diversi lunghi post i casi morton e Baker sono collegati? è una domanda più che lecita a questo punto mentre studia la mappa non riesce a smettere di pensare che se Norwood fosse stato arrestato e condannato per l'omicidio di Christine Deborah sarebbe potuta sopravvivere Morrison riesce a ottenere le informazioni solo 5 giorni dopo il 23 agosto invia un'email a Canabye dicendole che gli investigatori avevano verificato in quale casa di Justin Lane aveva vissuto Norwood Canabye digita il suo indirizzo e poi quello di Deborah Baker su Google Maps e guarda l'immagine che appare sullo schermo del computer le due case sono vicine in pratica Norwood viveva appena dietro l'angolo rispetto alla sua casa Morrison è già in Texas quando apprende le scoperte di Canabye essendo volata lì da New York per partecipare a un'udienza a Georgetown quel pomeriggio l'udienza riprende una richiesta avanzata dalla difesa che il giudice Stubbfield convinca Bradley a dimettersi dal caso ed a ulteriori procedimenti legali e nomine un procuratore speciale per rivedere le prove con occhi nuovi Stubbfield che si è costantemente schierato con lo Stato da quando è iniziata la battaglia per il test del DNA non ne è convinto dice sarebbe davvero un atto straordinario per questa corte escludere o ricusare il signor Bradley osserva esprimendo la sua fiducia per i due procuratori presenti Jernigan e il primo assistente procuratore distrettuale Lisney Roberts avrebbero gestito il caso in modo imparziale Stubbfield rivolge dunque la sua attenzione a un'altra richiesta della difesa citando i materiali scoperti della richiesta dei registri pubblici dell'Innocent Project Rilley aveva avviato una strenua causa per l'apertura del file sigillato del giudice Lott sostiene che la trascrizione della conversazione telefonica di Wood con Rita Kirkpatrick era chiaramente favorevole a Michael in quanto descriveva un resoconto di un testimone oculare dell'omicidio in cui un intruso sconosciuto non Michael era stato identificato come l'assassino c'è però un problema il giudice Lott l'avrebbe senza dubbio rivelato e la difesa avrebbe quindi saputo della sua esistenza il punto è che non l'aveva fatto e questo dimostra che Anderson non aveva mai presentato quella trascrizione al giudice l'unico modo per scoprire la verità è aprire il file affermare lei fiducioso che tutto sarebbe andato liscio Jennegan non si oppone Stubfield ordina che il file sia recuperato dalla corte d'appello di Austin un processo che avrebbe richiesto alcuni giorni in modo da poterlo aprire e rivederlo con gli avvocati di entrambe le parti personalmente sono curioso e vorrei vederlo aggiunge il giudice si ferma per un momento prima di concludere l'udienza poi dice dobbiamo avere tutto il coraggio di conoscere i fatti e lasciare che ci conducano dove possono indipendentemente da dove ci portino la mattina seguente Morrison e Riley si dirigono al dipartimento di polizia di Austin per un incontro che avevano richiesto con l'unità dei casi irrisolti i due avvocati vengono accolti da investigatori e un pubblico ministero dell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Travis che ascoltano attentamente Morrison e Riley esporre il loro caso dal DNA di Norwood sulla bandana alle scoperte di Canabai la calorosa accoglienza è in contrasto con il modo in cui erano stati accolti nel corso degli anni a Georgetown tutti sono molto interessati a ciò che i due avvocati hanno da dire alla fine gli investigatori dicono ai due avvocati che avrebbero esaminato le possibilità di confrontare il DNA rilevato sulla scena del crimine di Debra Baker con le recenti prove di Norwood quando Morrison e Riley lasciano il dipartimento di polizia quella mattina sono incoraggiati dalla speranza per quanto remota che si possa trovare un collegamento tra i due casi un collegamento che avrebbe cancellato ogni dubbio sull'innocenza di Michael l'entusiasmo di Riley è mitigato dalla sua frustrazione in quanto devono condurre loro le indagini e per inciso stanno facendo il lavoro che avrebbero dovuto fare le forze dell'ordine due giorni dopo il 26 agosto Jeffrey Kyle l'impiegato della terza corte d'appello si reca da Austin a Georgetown per consegnare a mano il file sigillato di Lott a Stubfield a quel punto Morrison e Riley sono tornati a casa e così Patricia Cummings un avvocato difensore penale locale che era diventata un membro del team legale di Michael si presta a fare da testimone all'apertura del file mentre lei e i due pubblici ministeri Jenny Gunn e Roberts aspettano il giudice Kyle rimane con loro tenendo la busta marrone che contiene il fascicolo di Lott Stubfield alla fine li convoca nel latro della sua stanza dove rimangono in piedi mentre apre la busta tira fuori sei pagine tutto ciò che c'è all'interno del file è un rapporto di Wood scritto il giorno in cui Christine era stata uccisa e un modulo di una pagina che Michael aveva firmato consentendo ai poliziotti di perquisire il suo pick up in quel file in realtà non c'è niente il giudice Stubfield si ritira dal caso la settimana successiva quando Morrison e Relay dichiarano in atti giudiziari che l'assenza dei rapporti e delle note di Wood dal fascicolo di Lott solleva lo spettro di una cattiva condotta ufficiale in sua assenza la corte suprema del Texas nomina una parte neutrale al di fuori della contea di Williamson il giudice distrettuale statale Sid Harl di San Antonio per presiedere il caso subito dopo il procuratore distrettuale Rosemary Limberg della contea di Travis contatta Harl per chiedere un appuntamento il giudice nonostante sia nel mezzo di un processo per omicidio punibile con la pena capitale nel suo distretto natale sceglie di parlarle per telefono ma fa anche trascrivere lo scambio avvenuto il 16 settembre da un giornalista del tribunale durante un'udienza a Georgetown dieci giorni dopo fornisce una trascrizione sigillata della conversazione a Morrison Rilley Jernigan e Roberts e dispone una pausa durante la quale gli avvocati avrebbero potuto leggerla la trascrizione contiene un'informazione sconvolgente un pelo pubblico che era stato recuperato dal letto di Debra Baker nel 1988 corrisponde al profilo del DNA di Norwood Morrison quando legge quella trascrizione non riesce a trattenersi inizia a urlare dicendo il caso è chiuso lo abbiamo chiuso questo vuol dire che il DNA di Norwood è stato rilevato sulla scena di entrambi gli omicidi l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Williamson però non vede le cose allo stesso modo tanto per cambiare quando gli avvocati di entrambe le parti del caso si riuniscono di nuovo in aula con la stampa presente Rilley afferma ciò che a quel punto sembra ovvio immagino che alla luce di queste nuove informazioni lo stato dovrebbe essere pronto ad accettare immediatamente di fornire un aiuto per Michael Morton dice con fermezza Roberts dice al giudice che la bandana avrebbe dovuto essere sottoposta a ulteriori test del DNA e Jenny Gunn per tutta risposta tira fuori un rapporto dai file del defunto sceriffo della contea di Williamson Jim Boatwell che aveva supervisionato le indagini sull'omicidio di Christine che sembrava mettere in dubbio l'importanza della bandana il rapporto era stato scritto dal vice sceriffo il giorno dopo che John Kirkpatrick aveva consegnato la bandana agli investigatori nel rapporto il vice sceriffo afferma di aver visto anche lui la bandana mentre in precedenza stava perlustrando la zona ma sostiene di non averla raccolta come prova perché non aveva notato sangue su di essa le macchie erano piccole e facili da ignorare in effetti sulla base di quel rapporto l'ufficio del procuratore distrettuale avanza una teoria davvero inverosimile ossia che il sangue di Christine finì sulla bandana dopo che John Kirkpatrick la raccolse quando tornò a casa dei Morton come esattamente John fosse riuscito a macchiare la bandana di sangue non suo e secco non è stato spiegato né è stato spiegato come fosse stato trovato un capello di Christine sulla bandana in altre parole anche se Norwood aveva lasciato cadere la bandana questo non faceva di lui l'assassino di Christine ma la posizione che prende l'ufficio del procuratore distrettuale è davvero insostenibile a quel punto sia gli investigatori di Morrison che i delegati dello sceriffo della contea di Williamson riescono a localizzare Norwood che viveva a casa di sua madre a 30 miglia a est di Austin nella città di Bastrop conferendo una nuova urgenza alle indagini sul caso con i media locali che riportano che le prove dell'omicidio di Morton sono collegate a un sospettato senza nome in un omicidio della contea di Travis Bradley non può far altro che arrendersi finalmente aggiungerei quattro giorni dopo l'udienza Bradley chiama Barry Sheck e alla fine Bradley finalmente cede alle condizioni di Sheck Bradley accetta non solo di rilasciare Michael su cauzione mentre la corte d'appello penale considera la sua situazione di reale innocenza ma anche di consentire agli avvocati di Michael durante quel periodo di condurre un'indagine sotto la supervisione del tribunale su una possibile cattiva condotta nel caso l'insolita deposizione permette loro di interrogare Anderson Wood e altri sotto giuramento dopo 8.995 giorni di prigionia Michael viene liberato è il lunedì 3 ottobre 2011 trascorre la mattinata regalando i pochi oggetti che possiede che gli avevano reso la vita più tollerabile una radio un ventilatore un paio di scarpe da ginnastica e fa la sua ultima passeggiata nel cortile quel pomeriggio viene condotto dal suo dormitorio a una cella di detenzione dove deve trascorrere la notte prima di essere trasportato a Georgetown per il rilascio mentre una guardia lo accompagna attraverso il dormitorio sente uno scroscio di applausi nel corso degli anni Michael si è guadagnato il rispetto dei suoi compagni di reclusione era conosciuto come una persona generosa che insieme ad altri due prigionieri con cui frequentava lo studio biblico aveva regolarmente compiuto atti di gentilezza verso coloro che stavano peggio come gli uomini che non ricevevano mai visite o denaro nella posta durante le giornate calde d'estate Michael aveva usato i suoi soldi dello spaccio che i suoi genitori gli avevano mandato per comprare il gelato per alcuni di loro guadagnandosi il soprannome di Ice Cream Man ora mentre cammina lungo il corridoio di cemento per l'ultima volta alza lo sguardo e vede decine di detenuti in piedi sul secondo livello che battono le mani fischiettano e fanno il tifo per lui Michael porta con sé una bibbia che sua sorella gli aveva dato alcune foto e uno spazzolino da denti al mattino presto due agenti dello sceriffo della contea di Williamson arrivano per riportarlo a Georgetown il protocollo per il trasporto di un detenuto anche un uomo che sta per essere liberato per motivi di reale innocenza richiede che sia ammanettato ma uno degli agenti esita prima di chiudergli le manette ai polsi e gli dice ora signor Morton se inizi ad avere brutti pensieri voglio che ricordi che quando le è successo tutto questo io avevo solo 12 anni Michael sorride e assicura alla gente che non aveva nulla di cui preoccuparsi porgi i polsi per essere ammanettato desideroso di mettersi in viaggio e il viaggio dura tre ore quando arrivano a Georgetown nella tarda mattinata del 4 ottobre Michael vede che ha subito una trasformazione sebbene sia ancora una piccola città brulica di traffico che defluisce dall'interstatale e le suddivisioni che la circondano sembrano estendersi all'infinito il tribunale al centro della città dove era stato condannato è chiuso Michael viene quindi portato nella nuova prigione vicino al Williamson County Justice Center lo spazioso e moderno tribunale dove si sarebbe tenuta la sua udienza nella sua cella trova una pila ordinata di vestiti che sua madre gli aveva fretturosamente comprato il giorno prima avendo indossato solo larghi abiti bianchi da prigione per tutto il tempo che riesce a ricordare li fissa una camicia bianca pantaloni color khaki un paio di boxer e un paio di calzini mentre si infili i pantaloni color khaki che sembrano incredibilmente morbidi inizia a piangere un mare di facce lo accoglie in aula ci sono Morrison Riley Sheck così come Bill Ellison che lo abbraccia sua madre Patricia suo padre Billy che avevano chiesto ai membri della loro chiesa di pregare per la liberazione del figlio per quasi 25 anni sedevano dietro di lui con sua sorella minore patti tutti raggianti i giornalisti sono stipati nell'aula del tribunale con l'intento di cercare una visuale migliore mentre Michael scruta la stanza vede una giovane donna che in seguito avrebbe scoperto essere Caitlin Baker la figlia di Deborah Baker individua Mario Garcia in fondo all'aula facendo al suo amico di farsi avanti avvolgendolo in un lungo e silenzioso abbraccio l'udienza dura pochi minuti durante i quali il giudice si scusa con Michael e poi accetta i termini del suo rilascio per diversi minuti tutti rimangono in piedi e applaudono mentre Michael sorride finalmente è libero ringrazio Dio che questo non sia stato un caso capitale dice alla folla di giornalisti e cameraman lo seguono mentre muove i primi passi fuori dal tribunale con la faccia rivolta verso il sole Michael è già nel sub dei suoi genitori e comincia ad allontanarsi quando Rilly fa il loro cenno di fermarsi accanto a lui c'è una donna dai capelli scuri sulla sessantina con l'aria sconvolta Rilly spiega che quella donna era Lou Brian una dei giurati del processo del 1987 ha appreso solo quella mattina quando ha letto il giornale che i test del DNA avevano dimostrato che Michael era innocente mi dispiace così tanto riesce a dire mentre fissa Michael in credula l'uomo le stringe la mano sussurrando capisco non si preoccupi quando Michael esce di prigione da uomo libero il 4 ottobre 2011 Ken Anderson era da tempo un membro rispettato della sua comunità era un insegnante di scuola domenicale e un volontario boy scout che si presentava nelle sue sentenze come un paladino sia delle vittime del crimine che dei bambini padre di due figli il giurista 59enne tenne un regolare processo simulato per studenti di quinta elementare e fece spesso apparizioni nelle scuole locali per parlare dei pericoli delle sostanze e dell'alcol era uno scrittore prolifico aveva scritto tipo 8 libri ma a questo punto dopo la scarcerazione di Michael si verifica un improvviso capovolgimento di fortuna per Anderson quando 8 giorni dopo il rilascio di Michael il CCA ossia la più grande compagnia carceraria a scopo di lucro della nazione annulla la sua condanna sulla base dell'effettiva innocenza la sentenza significa che Anderson si è assicurato un verdetto di colpevolezza contro un uomo indiscutibilmente innocente tuttavia se lui o chiunque altro coinvolto nel caso verrà ritenuto responsabile per l'ingiusta condanna rimane una questione aperta immediatamente dopo il suo rilascio il team legale di Michael inizia a cercare risposte grazie alle negoziazioni di Sheck con Bradley gli avvocati che ora sono sei inclusi Morrison Riley e Sheck sono in grado di interrogare Anderson Mike Davis l'ex assistente procuratore distrettuale che ha contribuito a perseguire il caso e Wood riescono a ottenere dichiarazioni giurate da molti altri la testimonianza rivelatrice durante la sua deposizione Anderson dichiara di aver probabilmente informato Ellison e il suo co-avvocato Bill White della trascrizione in cui Rita Kirkpatrick disse a Wood ciò che Eric aveva visto ma ammette di non ricordare ciò che aveva effettivamente fatto queste sono le sue esatte parole per nessun motivo al mondo se fosse stato nel mio fascicolo non avrei detto loro che Eric ha detto che il mostro ha ucciso sua madre Ellison e White però sono entrambi convinti che l'abbia fatto volutamente dichiarando infatti se avessimo saputo ciò che Eric ha detto a sua nonna ci saremmo battuti duramente affinché la giuria ascoltasse quelle prove il resoconto di Eric sarebbe stato fondamentale perché supportava la teoria che abbiamo presentato al processo secondo cui un intruso sconosciuto ha ucciso Christine poco dopo la conclusione dell'indagine a novembre Anderson rilascia la sua ultima dichiarazione pubblica sul caso in piedi fuori dal vecchio tribunale sulla piazza della città di Georgetown il giudice dai capelli bianchi dice ai giornalisti che si era comportato eticamente dice nel mio cuore so che non c'è stata alcuna cattiva condotta e aggiunge che non ha intenzione di dimettersi Caitlin Baker che è presente dice in seguito ai giornalisti che Anderson avrebbe dovuto dimettersi e come riteneva Anderson parzialmente responsabile dell'omicidio di sua madre perché la sua risoluta ricerca di Michael aveva permesso al vero assassino di rimanere impunito potrebbe essere viva in questo momento dice la sua indignazione è alimentata da quello che ha ampiamente visto e sentito come l'incapacità di Anderson di assumersi alcuna responsabilità personale per il suo ruolo Anderson però prima di andarsene conclude dicendo in qualità di procuratore distrettuale dell'epoca voglio scusarmi formalmente per il fallimento del sistema con il signor Morton e ogni altra persona che è stata colpita dal verdetto molti nella contetta di Williamson si chiedono se la questione sarebbe finita lì insomma raramente i procuratori del Texas hanno dovuto rispondere a domande difficili sulla loro condotta anche sulla scia di condanne illecite ma a febbraio il giudice Harle stabilisce che l'indagine condotta dagli avvocati di Michael suggerisce che c'erano dei motivi validi per ritenere che Anderson avesse infranto la legge per non aver consegnato prove altamente favorevoli alla difesa Harle raccomanda alla Corte Suprema del Texas di avviare un tribunale di inchiesta per esaminare la questione una settimana dopo la Corte Suprema concorda con le conclusioni di Harle e stabilisce che l'indagine dovrebbe procedere Anderson avrebbe dovuto rispondere della sua presunta cattiva condotta non ci sono precedenti per questa decisione a quel punto l'opinione pubblica si rivolta contro Anderson e Bradley in quanto volto dell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Williamson Bradley che aveva dedicato tempo incalcolabile dinaro dei contribuenti per opporsi alle richieste di Michael per il test del DNA viene criticato dalla stampa locale giustamente durante l'autunno l'attenzione torna ad Anderson il 4 ottobre dopo un anno dal rilascio di Michael il foro statale pubblica un rapporto avvilente sulla condotta di Anderson 16 anni prima l'agenzia lo aveva nominato procuratore dell'anno ora ha sporto denuncia disciplinare contro il giudice dopo un'indagine di 10 mesi si era concluso che Anderson aveva deliberatamente nascosto le prove un giudice nominato dalla Corte Suprema del Texas ascolterà le prove in una successiva udienza disciplinare se il giudice determinerà che Anderson ha nascosto le prove potrebbe essere ammonito la sua licenza legale potrebbe venire sospesa o potrebbe essere radiato dall'albo il giudice distrettuale di Fort Worth Louis Stearns presiede l'inchiesta con il leggendario avvocato difensore penale di Houston Rusty Hardin un tempo uno dei massimi pubblici ministeri dell'ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Harris in qualità di procuratore speciale l'insolito procedimento legale si tiene a Georgetown presso il Williamson Country Justice Center l'ironia della situazione è evidente l'ex procuratore distrettuale che sottopose Michael a uno spietato controinterrogatorio nel 1987 potrebbe essere chiamato a testimoniare mentre Michael lo guarda se il giudice distrettuale Stearns ritiene che Anderson ha violato la legge potrebbe deferire il caso all'ufficio del procuratore generale del Texas anche se gli avvocati di Anderson sostengono che il termine di prescrizione è scaduto da tempo per tutti i reati di cui potrebbe essere accusato gli avvocati di Michael tuttavia sostengono che la finestra di quattro anni durante la quale un pubblico ministero può essere accusato di violazioni come la soppressione delle prove non si è ancora chiusa perché Anderson ha commesso un atto in corso di occultamento fraudolento che non si è concluso fino nell'agosto del 2011 quando il fascicolo del giudice Lott viene aperto Anderson deve anche adottare una difesa vigorosa che attinge a una lettura ristretta di quali fossero i suoi obblighi legali di consegnare le prove la strategia del team legale di Anderson indica il tentativo di scaricare la colpa sul defunto sceriffo Boutwell la cui cattiva gestione delle indagini sull'omicidio di Christine getta una lunga ombra sul caso sottolineano il fatto che diverse prove come il messaggio telefonico riguardante la carata di credito di Christine sono state trovate solo negli archivi dell'ufficio dello sceriffo non in quelli dell'ex pubblico ministero Alison però non ritiene plausibile che Anderson non avesse visto tutti i documenti del caso indipendentemente da dove fossero stati archiviati nessuno sa esattamente quanto durerà la corte d'inchiesta potrebbe benissimo concludersi prima di Natale e alla fine Ken Anderson verrà incarcerato per dieci giorni per cattiva condotta la quale aveva portato all'ingiusta condanna di Michael Morton accetterà inoltre di rinunciare alla sua licenza di esercitare la professione legale in cambio di far cadere le accuse di manomissione delle prove l'epilogo del caso Morton arriva a gennaio quando Mark Alan Orwood arrestato l'autunno precedente a Bastrop viene processato per l'omicidio di Christine dato l'evidente conflitto di interessi della contea di Williamson i suoi stessi pubblici ministeri mentre combattevano con Michael per dimostrare la sua innocenza hanno scartato le stesse prove del DNA che coinvolgevano Norwood il caso sarà processato dalla procuratrice speciale Lisa Tanner nell'ufficio del procuratore generale non è noto se gli investigatori statali siano stati in grado di ricollegare Norwood al furgone verde al contenuto della borsa di Christine o alla calibro 45 automatica di Michael anch'essa rubata dalla casa dei Morton resta anche da vedere se il DNA del caso Baker sarà ammissibile per Michael l'esperienza è surreale e in sostanza guarda il suo processo originale replicato con prove che la giuria non ha mai sentito con un altro uomo seduto dietro il tavolo della difesa ma ora parliamo di Eric il figlio di Michael i ricordi dell'infanzia di Eric iniziano con una partita a T-Ball nei soborghi di Houston a 5 anni è un ragazzo allegro con i capelli biondi e un sorriso ampio e sereno per quanto possa provarci è incapace di ricordare qualsiasi cosa prima dei suoi 5 anni vedere una fotografia di se stesso con sua madre scattata poco dopo essere stato operato a cuore aperto quando aveva 3 anni evoca solo alcuni dettagli insoddisfacenti può ricordare il suo set di Hot Wheels con cui sta giocando nella foto ma non è in grado di evocare un vero ricordo della donna sorridente con i capelli scuri che lo guarda adorante quella è sua madre e davvero lo adorava follemente i pochi ricordi che ha di suo padre iniziano dopo che Michael è già in carcere può ricordare i labirinti disegnati a mano che ogni tanto arrivavano per posta che suo padre aveva accuratamente disegnato a matita su carta millimetrata prima di finire a inchiostro ognuno più intricato dell'altro quei dettagli innocenti spariscono lentamente e man mano che Eric cresce cerca di capire perché suo padre si è in prigione che suo padre fosse stato condannato per aver ucciso sua madre era un segreto di famiglia ben custodito Mary Lee lo aveva avvertito non doveva dirlo ai suoi amici a scuola Eric dice tutto quello che hanno fatto è stato per proteggermi da quello che era successo ovviamente mi è stato detto che mio padre era stato dichiarato colpevole ma non era qualcosa di cui parlavamo quando devono affrontare il passato facendo un viaggio di due ore per vedere Michael Mary Lee tenta di rendere ogni visita un'esperienza il più positiva possibile la giornata sarebbe iniziata con una sosta da McDonald's e un libro da colorare con cui Eric avrebbe passato il tempo durante il tragitto verso la prigione Mary Lee era intenzionata ad andare avanti oltre la tragedia che le aveva travolti ed Eric l'aveva aiutata a modo suo quando gli amici chiedono di sua madre dice che è morta di cancro o che è stata vittima di un incidente d'auto inoltre dice alla gente che suo padre se n'è andato non molto tempo dopo la sua nascita è partito e ora vive in California e così per Eric la vita va avanti ha una zia e una nonna che lo adorano un'ottima istruzione in una scuola cattolica privata amici in numerose squadre sportive in cui gioca e un amato cane di nome Shelby quando Eric ha 12 anni Mary Lee sposa un amico delle scuole medie e il suo nuovo marito ha un ruolo importante e positivo nella vita di Eric che prende il suo cognome Oslon quando si sta preparando per iscriversi al college la sua decisione ha poco a che fare con il taglio dei legami con Michael piuttosto ha a che fare con il desiderio di entrare a far parte della famiglia Oslon che a quel punto include non solo Mary Lee e suo marito ma il figlio di tre anni che Eric tratta come un suo fratellino Eric continua a frequentare la Texas State University dove diventa presidente di una piccola confraternita cattolica quando torna a casa a Houston lavora nel ministero del campus della sua vecchia scuola superiore incontra la sua futura moglie Maggie mentre fa volontariato in una chiesa locale un anno prima delle nozze durante un viaggio in auto attraverso la contea di Hill mentre fissa dritto davanti a sé l'autostrada a due corsie le dice che suo padre aveva ucciso sua madre le chiede di non dirla a nessuno nel giugno 2011 tre mesi dopo il matrimonio con Maggie Eric riceve un'email dall'avvocato John Rilley dopo aver tentato inutilmente per settimane di rintracciare Eric la moglie di Rilley Kelly anche lei un'avvocata si imbatte nel suo annuncio di matrimonio sul sito web di un piccolo giornale locale utilizzando i dettagli forniti scopre dove lavora Eric e passa le sue informazioni a suo marito John Rilley ti ho chiamato un paio di volte di recente e voglio che tu sappia chi sono e perché ho chiamato spiega l'email di John Rilley faccio parte di un team di avvocati che da molti anni si sono offerti volontari in difesa di tuo padre biologico Rilley a questo punto espone ciò che non era ancora stato rivelato al pubblico il test del DNA aveva fornito nuove potenti prove dell'innocenza di Michael Eric non risponde per sette settimane a 28 anni ha vissuto quasi tutta la sua vita credendo che suo padre avesse ucciso sua madre l'email lo sconvolge così tanto che trascorrono due giorni prima che riesca a parlarne con sua moglie quando Eric non risponde i Rilley arruanano il loro pastore per aiutarli chiedendogli di contattare il prete che sovrintende la scuola privata in cui lavora Eric solo dopo aver ricevuto la visita del prete Eric risponde all'email di Rilley inviando un breve messaggio in cui riconosce di aver ricevuto l'email il giorno seguente Eric risponde la mia famiglia non ha alcun desiderio di riprendere questa discussione o di rivivere quello che è successo 25 anni fa per favore non contattate più il mio posto di lavoro o la mia famiglia il primo istinto di Eric non è quello di escludere suo padre ma di proteggere la donna che lo ha cresciuto e impedirle di dover rivivere il dolore per l'omicidio di sua sorella non comunica immediatamente a Mary Lee del suo scambio con Rilley aspetta che passino un paio di settimane quando lo fa scopre che è estremamente scettica sul fatto che Michael possa essere innocente sulla base delle sue comunicazioni con l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Williamson che sta ancora cercando di ignorare l'importanza della bandana continua a credere che Michael sia colpevole tuttavia Eric continua a informarsi sul caso di suo padre di cui in realtà sa poco non si è mai nemmeno reso conto della lunga lotta che ha intrapreso Michael per far testare la bandana Eric a quel punto accetta il fatto che suo padre probabilmente è innocente ma si sente ferocemente protettivo nei confronti di Mary Lee che sta lottando per capire come tutto ciò che le è stato detto si stia rapidamente disfacendo e così il 4 ottobre il giorno del rilascio di Michael Eric si tiene a distanza non è presente in tribunale per ascoltare le scuse del giudice o gli applausi della folla quando terminano le lezioni quel pomeriggio Eric chiude la porta del suo ufficio e si siede davanti al suo computer riesce a trovare sul sito web di un emittente televisiva di Austin un video in streaming della conferenza stampa che si tiene a quasi 200 miglia di distanza a Georgetown si avvicina allo schermo osservando meravigliato suo padre che con un sorriso esuberante parla ai giornalisti Eric non prova però alcun bisogno di essere lì con lui due giorni dopo scrive a relay voglio iniziare condividendo il mio apprezzamento per il vostro duro lavoro spero che continuiate il lavoro che avete fatto perseguendo il vero assassino la sua famiglia prosegue Eric aveva difficoltà a rielaborare queste nuove informazioni nonostante quella tensione Eric scrive sento il bisogno di iniziare a riconciliarmi con questa situazione non riesco a immaginare il dolore che tutti hanno provato e so di essere stato benedetto da un'infanzia in cui sono stato protetto dalla maggior parte di quella sofferenza tuttavia vorrei ristabilire lentamente i contatti con mio padre subito dopo il suo rilascio Michael torna nel Texas orientale con i suoi genitori e si stabilisce nella loro camera degli ospiti quel tempo avrebbe assunto un alto profilo parlando nelle università della mancanza di controllo da parte dei pubblici ministeri incontrando i legislatori per discutere di riforme legislative ma in quei primi giorni conduce una vita estremamente riservata non è abituato alle cose quotidiane che un tempo dava per scontate come portare con sé un portafoglio o essere in grado di aprire una porta l'esperienza di essere toccato da un altro essere umano gli era estranea dopo tutti quegli anni passati in cella ed era colto alla sprovvista ogni volta che sua madre o sua sorella gli gettavano le braccia al collo cerca di riscoprire il mondo che lo circonda partendo dalle piccole cose come togliersi le scarpe e camminare a piedi nudi sul tappeto anche fare il bucato per lui è un piacere il processo di riconnessione con Eric è meno semplice Michael cerca di essere paziente man mano che i giorni e le settimane passano senza altre sue notizie poco prima del ringraziamento Eric accetta di incontrarlo e lo fa senza dirlo a Mary Lee che sta ancora affrontando le rivelazioni dei mesi precedenti John e Kelly Riley offrono la loro casa a West Houston come luogo neutrale per l'incontro così un sabato pomeriggio di novembre 2011 Eric e Michael si danno appuntamento per incontrarsi di nuovo Michael cammina avanti e indietro mentre aspetta Eric che è in ritardo dopo un po' Kelly inizia a temere che Eric possa non venire dopo tutto è così sollevata quando vede finalmente un'auto fermarsi Eric e Maggie scendono dal veicolo e si avvicinano alla casa dove Michael aspetta nell'atrio con Riley si stringono la mano poi Michael ed Eric si abbracciano a lungo Eric rimane in silenzio per la maggior parte della serata ma suo padre che ha desiderato ardentemente nella solitudine della sua cella quel momento non può nascondere il suo desiderio e le sue speranze vuole che si riavvicinino di nuovo alla fine Riley conduce Michael ed Eric fuori nel patio sul retro con delle tazze di caffè dove possono parlare da soli è la prima volta che stanno insieme da soli in 25 anni si siedono nell'oscurità su un'altalena bianca da giardino che dà sul cortile e solo allora Eric si apre dicendo a suo padre che non sa cosa pensare non è arrabbiato non l'odia ma si sente strano e non sa come comportarsi con lui una parte di lui sente di tradire Kirkpatrick in quel momento Michael si rilassa mentre ascolta suo figlio che spiega le sue emozioni contrastanti lentamente la conversazione si addolcisce virando su argomenti sui quali Eric si è sempre interrogato chi era sua madre conosceva poco della sua vita adulta e i tre anni che avevano trascorso tutti insieme come famiglia Michael vede suo figlio Eric altre due volte quell'inverno a gennaio visita Houston poco dopo la nascita della figlia di Eric e Maggie e a febbraio Eric va nel Texas orientale per visitare la famiglia allargata dei Morton a quel punto Eric dice a Mary Lee dell'incontro con suo padre e sia sorpreso che sollevato nello scoprire che anche lei sostiene il suo desiderio di recuperare il rapporto con Michael ma gli stessi Kirkpatrick essendo stati condizionati per più di due decenni a fidarsi del ritratto statico di Michael presentato al suo processo sono pesi tanti quando l'intera famiglia si riunisce ad aprile per il battesimo della bambina di Eric e Maggie Michael riceve quella che secondo lui è una tiepida accoglienza prima durante una cena con Mary Lee e in particolare al battesimo stesso si salutano ma non parlano più di tanto anche John Kirkpatrick responsabile del ritrovamento della bandana insanguinata che ha aiutato a liberare Michael è stato cordiale ma distante nessuno di loro ha effettivamente accettato o interiorizzato la sua innocenza ma sa che sono stati manipolati e tenuti all'oscuro su aspetti importanti dell'indagine quindi li capisce e li perdona Michael cerca di non sopraffare Eric andando a Houston troppo spesso anche se vedere suo figlio tenere in braccio sua nipote lo rende incredibilmente felice quando gli fa visita di solito rimane con i relay e si ferma a casa di Eric e Maggie giusto per salutarli in una recente visita lui ed Eric sono andati ad una partita degli Astros era la prima volta che andavano insieme a una partita di baseball un giorno Michael Eric e Maggie sentono la bimba piangere nella stanza accanto e Maggie va immediatamente a prenderla pochi minuti dopo torna tenendo in braccio la sua bambina di sette mesi è minuscola e vigile fissa tutti con un'espressione placida i suoi occhi azzurri sono luminosi come quelli della sua defunta nonna che avrebbe 57 anni se fosse ancora viva tutti fissano la bambina mentre ristudia vigile e serena inconsapevole di tutto il dolore e la sofferenza che l'aveva preceduta il suo nome ovviamente è Christine Michael riesce ad avere nuovamente un ottimo rapporto con suo figlio Eric la sua vita si illumina quando suo figlio e sua moglie mettono al mondo altri due bambini che Michael ovviamente adora inoltre si sposa con Cynthia e vanno a vivere sulle rive di un lago nelle zone rurali del Texas orientale detto questo ragazzi grazie mille se mi avete seguito fino a qui capisco che questo video forse è il più lungo che abbia mai fatto fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo caso lo conoscevate è davvero un orrendo errore giudiziario questo quindi voglio sapere assolutamente la vostra opinione come al solito ci becchiamo nei commenti detto questo io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.